Bene, allora buongiorno a tutti. Io sono particolarmente felice e anche orgoglioso di inaugurare questo convegno di studi che nasce attraverso un inter che è abbastanza tipico per un'accademia e non per un centro studi. Molte volte mi chiedono come si organizzano le attività culturali all'interno di un'accademia. Le iniziative possono venire dall'alto, indubbiamente, ma molto spesso provengono dal basso, cioè da soci, da amici, da persone che portano in accademia dei buoni progetti e che trovano disponibilità da parte del Consiglio Accademico nella loro organizzazione. Ecco, questo è il caso proprio del convegno odierno. Qualche anno fa, con Dario Di Cristoforo, abbiamo ragionato sulla possibilità di effettuare un convegno sul tema della pittura profana a seguito di un altro importante evento avvenuto nel 2018 su Palazzo Noriller e in particolar modo gli affreschi molto particolari di Palazzo Noriller. Una tavola rotonda che si è trasformata in un volume pubblicato nel 2020 e io penso che il convegno di oggi sia sostanzialmente una prosecuzione di quel impegno che l'Accademia ha manifestato nei confronti del tema della pittura profana. In questa occasione, ovviamente, abbiamo un convegno molto più articolato, molto più complesso, che inserisce, se volete, un caso particolare in una situazione molto più ampia, molto più sfaccettata e credo che questo per uno studioso, per uno storico sia un fatto estremamente importante perché a scala maggiore chiaramente i problemi assumono significati, dimensioni molto molto diverse. Io non mi permetto neppure di addentrarmi nei rivoli di questo convegno perché non sono per nulla esperto, io mi occupo di tutt'altro periodo, però questo dà la dimensione dell'impegno, come posso dire, multidisciplinare dell'Accademia nei confronti dei problemi relativi alla storia, la storia dell'arte, la storia della società, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di dare la parola a Dario, che illustrerà in maniera molto più dettagliata il significato dell'operazione che ci apprestiamo in qualche modo a seguire oggi e domani, io voglio ringraziare tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo evento. Oltre Dario, che io non posso che continuare a ringraziare proprio per questa proposta che lui ha fatto all'Accademia, devo ringraziare gli altri due componenti del Comitato Scientifico, Carlo Andrea Postinger, segretario accademico, e Marcello Beato, che ricordo, sono tra l'altro i curatori del volume su Palazzo Noriller, che ricordavo poc'anzi. Ma permettetemi anche di ringraziare tutti i relatori che hanno, con estrema disponibilità e generosità, aderito alla nostra proposta. Il numero dei relatori di questo convegno proprio dà la dimensione, come posso dire, della ricchezza delle proposte che queste due giornate offriranno al pubblico presente in sala e collegato online. Io mi fermo qui, intanto vi ringrazio e passo senz'altro la parola a Dario. Prego. Unisco ai ringraziamenti. Buongiorno a tutti. Ringrazio io il presidente dell'Accademia, l'Accademia stessa e la segreteria, tutto lo staff dell'Accademia che ci ha permesso di organizzare questo evento, di cui sono molto felice vedere l'inizio e la sua concretizzazione dopo anni di di strutturazione, di organizzazione. Volevo anche iniziare con i ringraziamenti. Unisco a quelli già espressi dal presidente, ringrazio anche i due componenti del Comitato Scientifico che con me hanno organizzato il programma del convegno, ovvero Carandra Postinger e Marcello Beato. Ringrazio tutti i relatori che hanno accolto sia i nostri inviti, sia hanno partecipato alla Call for Papers che abbiamo indetto l'anno scorso e nonché ringrazio tutti coloro che ci sono venuti a seguire sia in persona sia da casa, perché ricordo che questo è un convegno che ha questa doppia anima sia qui in presenza a Rovereto sia nelle case di tutti coloro che ci seguono. Ho pensato di strutturare questa introduzione cercando di dare alcune indicazioni un po' generali, talvolta anche un po' specifiche, legate a quello di cui parleremo in questi due giorni. Ho preparato delle slide, vediamo se riesco a condividerle. Il tema a cui il convegno in esame è dedicato è la pittura murale profana di tema politico, un argomento che risalta anche dal sottotitolo del convegno stesso, su cui mi sembra giusto soffermarmi per chiarire meglio l'oggetto di studi. Chiedo anticipatamente scusa ai relatori e agli affermati studiosi qui presenti, ma vorrei dedicare un piccolo inciso di carattere tassonomico. In primis, tra oggi e domani si parlerà di pittura profana. Questa etichetta, a ben vedere, è sprovvista di una definizione soddisfacente che la inquadri e ne delimiti i confini di pertinenza. Per pittura profana l'unica formula accettabile come definizione corretta è in negativo, in realtà, ovvero tutto ciò che non ha attinenza con la sfera sacrale, o quantomeno nel sacro inteso in senso medievale moderno, quindi per il mondo europeo prevalentemente cristianesimo. All'interno di questo contenitore troviamo diverse tipologie e argomenti, temi letterari e epici come romanzi cortesi, mitologia antica e non, con temi storici legati a storia antica o eventi di storia contemporanea. Li ho chiamati temi folcloristici, cicli di mesi dell'anno, oppure temi erotico-ludici, scene di corteggiamento, scene di gioco, prove di coraggio dell'amato, dell'uomo che cerca di conquistare la donna, temi bellici, combattimenti, sia reali, quindi connessi con eventi concreti o tornei, sia anche di fantasia, araldici, stemmi, cimieri, imprese. Troviamo poi anche decorazioni geometriche aniconiche, non figurate, e anche una miscellanea di queste tematiche che talvolta si uniscono, si mischino e hanno e assumono diverse chiavi di lettura. Nel Comedi Unesame non parleremo di tutti questi argomenti, ma solo di una selezione, inquadrata entro la lente della funzione politica. Mi riferisco a cicli pittorici che presentano una chiave di lettura principalmente celebrativa, di sé, quindi del committente delle pitture, o delle proprie relazioni politiche, diplomatiche, familiari. Si tratta quindi di manifestazioni di dominio contro l'osunarea o una città, oppure di autocelebrazioni culturali o letterarie, oppure ancora di dimostrazioni di forze ed esperienze in campo bellico. Chiavi di lettura che possono essere utilizzate sia su cicli pittorici di Temaraldico, sia su cicli di carattere letterario, bellico, storico, come vedremo in questi giorni e sentiremo in questi giorni. Tali decorazioni trovavano e trovano ancora posto in ambienti privati e pubblici, regge, palazzi signorili, ma anche edifici privati, palazzi comunali, castelli, rocche, torri, mura di città. Il convegno è dedicato quindi a tutte quelle manifestazioni pittoriche prodotte tra la prima metà del 300 e la metà del 400, in un periodo che vede il generale abbandono delle figurazioni di carattere comunale e la diffusione sempre più marcata di temi legati all'affermazione dinastica e talvolta anche personale dei signori. Di simili apparati decorativi, il nord Italia presenta il maggior numero di testimonianze superstiti, senza uguali sia nel resto d'Italia sia in Europa. Per quanto riguarda l'area geografica, il convegno coprirà tutto il nord Italia, dal Piemonte al Fiorinimezzo a Giulia, toccando quindi sia l'area alpina sia quella padana. Per avere un esempio più pratico dell'importanza e dell'uso di tali ambienti all'interno delle corti signorili italiane, alla fine del Medioevo, rimando a un celebre passaggio tratto dalla cronaca carrarese di Galeazzo e Bartolomeo Gatari, ante 1405 nella loro prima versione. Il testo, che potete leggere nella slide, racconta di come Ubertino da Carrara, signore di Padova, nel 1338, preoccupato della possibilità che la Repubblica di Venezia gli dichiarasse guerra, fece rapire alcuni gentili uomini nei vinci e li fece portare nella sua reggia padovana, dove li lasciò tutta la notte. Solo col sorgere del sole i prigionieri poterono capire dove erano stati portati, grazie a un particolare molto interessante, descritto dal cronista, ovvero che la sala era tutta dipinta a carri, cioè i carri, lo stemma di da Carrara. Stemma che era ripetuto, dipinto sulle pareti della stanza. Questo tipo di decorazioni ha destato un certo interesse nella critica in questi anni. Non si tratta di temi inediti o poco studiati, anzi. La fortuna critica sull'argomento nasce, diciamo, a origine col celebre testo di Julius von Schlosser, di cui riporto il titolo, perché il mio tedesco non è così sicuro, è edito nel 1895. Studio che nacque dall'esigenza di pubblicare il Tacuinum Sanitatis di Vienna, opera che lo studio suoi riteneva essere nata nel tardo 300 veronese, attorno al quale Schlosser provò a recucire i vari brandelli delle testimonianze pittoriche di tema profano che erano allora conosciute. Lo studio ha il merito di abbracciare un ampio orizzonte geografico, dall'Inghilterra all'Italia, e di prendere in considerazione diverse tipologie di arte di corte, pittura murale, arazzi, tappezzeria, cofanetti figurati, manoscritti. Lo sforzo prodotto dallo studio saustriaco non ha avuto poi confronti. Per quanto alcune sue proposte siano state riviste nel tempo, l'opera di Schlosser rimane ancora oggi un testo basilare di primaria importanza per metodo, ampiezza e chiavi di lettura. Dopodì allora lo studio della arte di corte ha avuto in Italia un'accelerazione solo a partire dal secondo novecento. Gli spogli archivistici, il ritrovamento di nuovi intorno ai cidipinti e la proliferazione di studi monografici sui singoli casi studio ha creato, specie dagli anni sessanta e del novecento, una moltiplicazione di contributi. Gli studi prodotti sono stati preventemente monografie, volumi o articoli scientifici, volte a indagare singolarmente edifici e casi studio circostanziati. Col tempo però e con la proliferazione delle pubblicazioni, alcuni studiosi hanno cercato di leggere dipinti profani di tema politico sotto varie chiavi di lettura. C'è chi, sulla scorta del metodo di Schlosser, ha incluso tali decorazioni entro un studio generale sulla pittura profana italiana del Trecento, come Anne Dunlop in Painted Phalasies. Chi invece ha correttamente inquadrato le singole occorrenze entro un'area regionale, come non citare per la Trentina i studi di Josef Feingarner e quelli di Niccolò Rasmo, oppure, sempre per rimanere in area alpina, la recente mostra e il suo prezioso catalogo Carlo Magno va alla guerra del 2018, dedicato all'area piemontese e francese. E qui ho inserito anche il volume degli atti del convegno dedicato a Palazzo Noriller, a Rovereto. Talvolta il fenomeno della pittura profana è stato incluso anche in una chiave di lettura non monotematica, ma condivisa, talvolta assaggiamente, con altre produzioni artistiche e anche di tema sacro. Mi riferisco a opere come Il Gotico nelle Alpi o Le Vie del Gotico tra il 2002 e il 2003 e al convegno Arte di Corte in Italia del Nord del 2013. Il titolo del presente convegno, ovvero Dentro e Fuori la Corte, viene direttamente a due contributi di Fausta Piccola e Tiziana Franco inseriti all'interno di quegli atti, tra cui ho rubato il titolo. Per la progressione degli studi, fondamentali sono stati poi i contributi su specifici temi iconografici. Ricordo qui il testo Pittore infamante di Gerardo Ortalli, la cui prima edizione nel 1979, e gli studi di Maria Monica Donato sull'iconografia degli uomini illustri. Altrettanto importanti all'apporto dello studio e della portata politica, i tali dipinti sono anche i volumi di taglio filologico e letterario, volti cioè a indagare le decorazioni di tema cavalleresco nel rapporto con le fonti testuali di provenienza. In questo senso rinvio all'opera di Maria Luisa Meneghetti, Storia al Muro del 2015, e anche al catalogo della mostra Le Stanze di Artù del 1999. Come già detto, la gran parte delle pubblicazioni sul tema sono di carattere monografico, ovvero dedicati a un luogo specifico, che viene scandagliato sia dal punto di vista visuale e archeologico, sia relativamente alle testimonianze archivistiche. Un ottimo esempio di tali produzioni sono tra i tanti il testo di Betty Kurt sul ciclo dei mesi di Trento, gli studi di Marco Folin sul palazzo Marchionale di Ferrara e il recente volume Un castello per la signora e Carrarese, un castello per la città, curato da Giovanna Valenzano, edito nel 2019. In questi anni quindi lo studio dei dipinti è sempre proceduto principalmente per approfondimenti monografici, talvolta supportati da buone analisi storiche e indagini archivistiche, ma spesso lacunose dal punto di vista della comprensione generale di tali manufatti. È sempre mancato insomma uno sguardo generale sul fenomeno, così anche un momento di riflessione sul come tale sguardo andrebbe modulato. Oggi, grazie agli studi di chi ci ha preceduto, ai restauri, alle scoperte di nuove decorazioni, soprattutto alla possibilità garantita da internet e dalle recenti tecnologie, conosciamo un numero di occorrenze di tali decorazioni molto alto, inimmaginabile fino a vent'anni fa. Davanti a tre situazioni abbiamo creduto essere necessario creare un'occasione per problematizzare il fenomeno, interrogarsi sulle chiavi di lettura, sul metodo o sui metodi di studio da seguire e sulla funzione di tali decorazioni. Accanto a una lettura più propriamente storico-artistica, occorre infatti conoscere i contesti storici in cui queste manifestazioni pittoriche ebbero luogo, per evitare che le tisteonianze analizzate e vengono trattate come oggetti isolati dal loro contesto. In questi due giorni discuteremo infatti di vari temi, di stemmi e araldica esposta, di come l'autoaffermazione del Signore poteva passare attraverso l'arredamento di sale con, anche qui, elementi araldici, oppure col recupero di, una volta fantasiosi, rapporti di discendenza da personaggi dell'antichità, le esaltazioni degli avi e della dinastia al potere, la rappresentazione di luoghi posti sotto il proprio controllo, la rappresentazione di eventi storici, se non contemporanei. Parleremo poi anche di esempi di pittura infamante, di la decorazione degli ambienti di potere e dei luoghi pubblici, così anche nel rapporto tra i temi, tra le decorazioni delle residenze dei signori e quelle, invece, delle dimore private dei cortigiani. Inoltre, come avveniva la ricezione di tali decorazioni, quali sono le fonti per una più completa comprensione di tali occorrenze, inventari, cronache, contratti e altri documenti. Data la tematica regionale che verrà, data la varietà tematica regionale che verrà interessata, le due giornate di studio sono state divise nel seguente modo. Una prima sessione dedicata al metodo e alle fonti, con, che inizierà tra poco, con gli interventi di Gian Maria Varanini, Gianluca Ameri e Cristian Zendri, seguiranno poi quattro sessioni regionali. La prima, sempre oggi, tra i Savoi e i Visconti, con interventi Simone Bonicatto, Camilla Baldi, Matteo Ferrari e Tizia Barozzi, c'è un cambio di programma rispetto a quello preventivato, per cui non sarà più questa sessione moderata da Andrea De Marchi, ma sarà moderata da Marcello Beato. L'ultima sessione della giornata invece è dedicata a Verona, tra gli scaligeri e la dominazione venta, con interventi di Ettore Napione, Fausta Piccoli e Giulia Gambarotto, in cui verrà moderata non più da Marcello Beato, ma da me. Domani invece apriremo con una sessione dedicata al Trentino e al Tirolo, moderata da Caravangra Postinger, con interventi di Walter Landi, Marcello Beato e Serena Bugna. L'ultima sessione regionale dedicata a Ferrara del Nord-Est, moderata da Zuleika Murat, con interventi miei, mio, Margherita Turci, Alice Ducati, Valentina Rota e Franco Benucci. Infine, una sessione di conclusione in cui cercheremo di tirare le fila degli interventi e degli elementi saltati alla luce in questi due giorni. i redattori avranno un tempo massimo di 30 minuti per presentare la loro relazione e alla fine di ogni sessione ci sarà un primo momento di discussione in cui ragionare dei singoli temi emersi. Abbiamo poi deciso di dedicare la discussione finale, la sessione finale a un confronto volto a mettere in relazione tutte le tematiche e gli argomenti che in questi due giorni verranno per hanno l'attenzione nostra. Grazie. Allora, io darei inizio alla prima sessione mattutina dal titolo Metodi e fonti. Allora, chiamo il primo redatore, il professore Gian Maria Varanini, il professore ha un curriculum molto lungo e sarebbe difficile comprimerlo in poche righe, ricordo solamente è professore di storia medievale all'Università di Trento tra il 1988 e il 2002 e dal 2002 ad oggi professore sempre di storia medievale all'Università di Verona, membre social di numerosi istituti e accademie tra cui l'Accademia di Agricoltura Scienze Lettere di Verona, la stessa Accademia degli Eggiati di Rovereto e l'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. Il professore ci presenterà una redazione dal titolo Orizzonti Politici e Network Relazionali nell'Elite Cittadine in Italia Centro-Settentrionale del Quattrocento alcuni esempi. Sì, certo. Sì, certo. Come si fa ad andare giù? Questa freccia? Buongiorno a tutti. In realtà non appartengo a nessuna università, sono pensionato e ecco sì, comunque ho insegnato a Verona come tutti come qualcuno di voi sa fino al al 2020 e adesso appunto come carica ufficiale mi occupo della deputazione di storia patria per le Venezia. Allora e quello che ha detto poco fa il dottor il dottor De Cristofaro mi esime in realtà dall'accennare a una parte diciamo così di carattere storiografico che avevo preposto a a quanto vi dirò ecco insomma è un convegno di storici dell'arte come storici generici siamo pochissimi io e Walter Landi che peraltro è mascherato da studioso di araldica e di iconologia e poi c'è Christian Zendri come storico del 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 diritto ecco ho pensato allora appunto di proporre una relazione di carattere proprio introduttivo ecco che affronta uno degli aspetti che stanno al cuore del convegno ecco se leggiamo il programma almeno stando ai titoli dei dei contributi che verranno proposti staremo più dentro la corte che non fuori della corte ecco allora ecco appunto sono previste relazioni sui della Scala sui Bonacolsi sui da Carrara sul Principe Vescovo di Trento sui Visconti sugli Estensi eccetera e c'è c'è poi insomma varia aristocrazia di varia natura bresciana tirolese piemontese diciamo ecco ecco io assumerò un taglio dicevo un pochino un pochino diverso ecco consapevole peraltro che gli storici generici diciamo così gli storici che peraltro negli ultimi decenni hanno profondamente rinnovato il quadro storiografico sulle signorie cittadine e anche sui ceti dirigenti del tardo medioevo ecco a questa tematica della pittura politica della quanto ci ha raccontato prima appunto Dario De Cristoforo sono stati abbastanza disattenti diciamo ecco prendo come esempio questo che attualmente il testo è un libro di sei o sette anni fa il testo di riferimento diciamo così per chi vuole affrontare affrontare queste 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 tematiche ecco e come dire questo taglio questa prospettiva mentre ci sono riferimenti alle fonti narrative alle fonti giuridiche ecco è sostanzialmente è sostanzialmente assente ecco quindi c'è una lacuna ecco da questo da questo da questo punto da questo punto di vista e ecco e peraltro appunto mi colloco in quanto vi dirò ecco più sul versante che sta fuori che sta fuori della corte ecco in breve il problema che vorrei approfondire è questo quali sono le risorse politiche culturali di immagine di relazione che possono mettere in campo le elite cittadine delle città non sovrane delle città non civitas superiore non reconnaissance non delle capitali che nel 300 400 hanno corti e come dire luoghi che diventano il fulcro il terreno il campo dell'esercizio del potere dell'ascesa sociale eccetera ecco quali sono invece le risorse che hanno in termini di immagine di immagine e di proposta di sé e anche di scelte di scelte iconografiche o di relazioni ecco le elite che delle città provinciali fra virgolette delle città non non capitali in particolare quelle che ho studiato meglio sono quelle del Veneto e anche e anche di qualche e anche di qualche altro caso ecco quindi questo è un pochino lo scenario che cercherò che cercherò di 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 illustrare ecco ma andiamo un attimo con ordine ecco e riflettiamo un attimo sul fatto che la cronologia scelta per questo convegno fra 300 e 400 si iscrive in una delle fasi cruciali della trasformazione del quadro politico dell'Italia centro-settentrionale ecco fra gli inizi del 300 e la metà del 500 per prenderla lunga dalla dalla spedizione in Italia di Enrico VII alla pace di Cato Cambresi ecco e e poi in particolare fra nel periodo fra il 1380 1390 e la pace di Lodi che è nel 1454 quindi questo settantennio che sta all'interno di questo di questo paio di secoli ecco sapete tutti lo sappiamo tutti ma non è inutile ricordarlo almeno nella mia nella mia nella mia ottica ecco c'è una come dire un processo politico di importanza decisiva si è parlato e si è scritto giustamente di tracollo della città-stato di ridefinizione del ruolo dei centri urbani nella nuova geografia politica dell'Italia del rinascimento ecco queste parole geografia politica dell'Italia del rinascimento il titolo anche di un saggio di Francesco Somaini compreso nel volume lo stato del rinascimento in Italia 1350 1320 curato da Gamberini e Lazzarini mostrerò poi la copertina edito a Cambridge nel 2012 e in italiano nel 2014 che rappresenta appunto per la fase successiva prima ho mostrato il testo di riferimento per le fignorie cittadine un punto di riferimento un punto di riferimento importante prendiamo i dati che illustra che illustra Somaini delle circa 90 città-stato esistenti in Italia all'inizio del 300 si passa a circa 15 attorno alla metà del 400 al momento della pace di Loghi e una sola cioè Lucca un secolo più tardi al momento appunto della fine delle guerre d'Italia diciamo e poi della pace di Cattò-Cambresì al posto della città-stato troviamo principati di origine feudale principati ecclesiastici stati minori con una capitale e tre o quattro città variamente coordinate come lo stato Estense lo stato Feltresco e Malatestiano quando esistono ecco e poi come ben sapete macroformazioni macroformazioni regionali formatesi attraverso appunto un travaglio politico che fu particolarmente acuto in questi anni fra 300 e 400 fra il 1380 a 90 e la metà del secolo e la metà del secolo successivo ecco e naturalmente non ha senso soffermarsi qui in modo analitico sui motivi della crisi della città stato a partire dalla conflittualità interna legata alle fazioni a tanti altri motivi ma la coscienza della crisi del sistema è già presente all'epoca di Dante nel 1317 quando i legati papali eh eh Bernardo Guy e il Delatur vengono nelle città italiane e riferiscono poi a Giovanni ventiduesimo ecco dicono che le città del regno erano pronte a darsi un re che ponesse fine al disordine dei territori tra 1330 e 1332 Giovanni di Lussemburgo in 4 e 48 costituisce un dominio politico che poi dura lo spazio di un mattino ma è la manifestazione in qualche modo in qualche modo di una di una di una di una esigenza no? Ecco in termini generali si riconoscono tre motivazioni profonde e strutturali della crisi dello Stato cittadino che si combinano variamente e agiscono con pesi differenti da caso a caso una appunto è l'instabilità del sistema politico alla quale abbiamo ho già accennato ecco ma che in molti casi determina l'avvento di oligarchie cittadine la seconda è lo shock demografico di metà di metà trecento e nel libro che ho appena citato quello lo stato del rinascimento in Italia si periodizza al mille trecentocinquanta si fa partire di lì appunto questo 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 processo e la terza è la crisi militare dei comuni cittadini in particolare la crisi della fanteria e l'avvento delle compagnie professionali ecco dato che come sempre pecunia est nervus belli ecco che nella seconda metà del trecento i grandi sistemi finanziari di Firenze di Venezia in parte poi anche di Milano come dire entrano con tutto il loro peso in quelle che sono a indurre come elementi che inducono queste queste trasformazioni queste trasformazioni politiche ecco quindi c'è un lato come dire un versante economico e politico che questo convegno la periodizzazione di questo convegno intercetta in una fase appunto cronologicamente mediana ecco dalla quale io mi aspetto per questo convegno una grande varietà di situazioni perché come già lo anticipava in qualche modo De Cristoforo abbiamo residui della della pittura infamante di tradizione tipicamente comunale ecco manifestazioni puramente di corte ecco è una serie di esperienze appunto che vedremo e che appunto hanno un riscontro in questa fase ambigua e di trasformazione profonda dal punto di vista del punto del punto di vista del punto di vista politico ecco l'ottica nella quale io mi pongo è quella appunto invece delle famiglie non signorili delle famiglie che non esercitano che non esercitano il 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 potere ecco allora se quella che ho descritto in termini appunto talmente elementari da risultare caricaturali è il quadro politico di trasformazione nel quale ci troviamo ecco non è meno importante il punto di vista della storia sociale visto che la committenza è fatta anche da famiglie aristocratiche o patrizie e che anche le famiglie signorili che sono fra le protagoniste di questo convegno presentano profili molto molto diversi molto diversi fra loro allora al tema della mobilità sociale del medioevo anche a questo tema appunto c'è stato un grande interesse della della storiografia mostrerò adesso una serie di copertine nelle quali le ruote della fortuna si sprecano ecco perché è ovvio che è appunto come dire l'immagine che meglio di tutte esprime esprime queste cose ed è appunto questo è un primo eh saggio curato da Sandro da Sandro Carocci questi sono appunto altri volumi di questa stessa di impostazione di ricerca che ha avuto appunto un grosso esito ecco peraltro anche nel volume conclusivo di una grossa ricerca prin sulla mobilità sociale nel medioevo italiano che risale al 2018 l'unico saggio che sfiora le tematiche di questo convegno è un lavoro di Bianca Dedivizis su Architektual and Social Mobility concentrato sull'Italia meridionale del 400 e del 500 questo è abbastanza clamoroso da un certo punto di vista e ripeto appunto come dire eh conferisce a questo convegno un rilievo perché mette l'accento su una serie di fenomeni una serie di fenomeni eh significativi allora eh sintetizziamo velocemente le prime tappe di questa mobilità eh sociale che inizia per le società dell'Italia centro-settentrionale dall'undicesimo eh dodicesimo dall'undicesimo dodicesimo secolo no è un momento fino al quale fino alla metà del dodicesimo secolo la la società le società cittadine italiane sono tendenzialmente inclusive è possibile ed è facile la scalata sociale anche dell'inurbato in seconda o terza o terza o terza generazione no ecco non è una novità ma questi testi di curati da Carocci lo hanno dimostrato in modo incontrovertibile che nella seconda metà del duecento questo dinamismo questa questa mobilità sociale appunto sostanzialmente si 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 rallenta no la serrata del maggior consiglio a Venezia la matricola dei nobili bloccata il 1277 a Milano il governo dei nove a Siena i magnati a Firenze e a Padova all'incontro il corporativismo artigiano che in altre città si presenta appunto come come un blocco come un blocco come un blocco sociale no ecco e naturalmente il ricambio c'è l'incessante girare della ruota della ruota della fortuna non si come dire non si arresta no giustamente Vifredo Pareto sostiene che la storia è un cimitero di aristocrazie ecco e ecco e tuttavia appunto è importante precisare ragionare su quelli che sono appunto i canali della mobilità sociale appunto in questa in questa in questa in questa in questa fase allora introduco quella che è la distinzione fondamentale all'interno di quel quadro politico dell'Italia centro-settentrionale fra tre e quattrocento appunto che che ricordavo che ricordavo prima no ecco il contesto fondamentale che è stato illustrato direi nel modo migliore soprattutto dalle ricerche di Serena Romano e di Guido Cariboni e di altri per l'area Viscontea e per il Ducato per il Ducato Visconteo Sforzesco e poi anche appunto nel corso nel corso del quattrocento allora va impostata questa distinzione fondamentale fra gli ambiti politici nei quali c'è un ambiente di corte una capitale che crea un perimetro un recinto sociale un luogo nel quale appunto è possibile attraverso la carriera burocratica nell'ufficialità attraverso i legami con le istituzioni ecclesiastiche è possibile diciamo così mettersi in luce politicamente fare carriera la corte o la società politica della città capitale svolgono un ruolo di ascensore sociale e funzionano come luogo più o meno codificato nel quale dedicarsi talvolta con successo e con successo duraturo alla vita politica alla vita politica appunto dell'ambito della corte diciamo così dello stato è morto pochi giorni fa Giorgio Chittolini un grande maestro della storiografia italiana proprio su questi temi ecco la sua scuola ha sostanzialmente con Francesco Somaglini Marco Gentile Andrea Gamberini ecco illustrato questi processi per cui da Parma da Piacenza ma da Vigevano va bene dai centri minori della Brianza da Como ecco ecco che la corte di Spontea e Sforzesca si come dire affolla di questi di questi personaggi che sfuggono al mero contesto della città della città di origine e trovano appunto attraverso questi come dire canali della mobilità sono stati anche teorizzati riprendendo alcune definizioni di un sociologo russo americano che si chiamava Sorokin sono stati definiti appunto questi canali della mobilità che permettono appunto l'ascesa sociale naturalmente c'è l'università e l'università di stato come luogo cruciale nel quale appunto si può ascendere si può ascendere socialmente naturalmente ci sono le istituzioni ecclesiastiche ecco e quindi ecco che va definito appunto questo primo modello diciamo ecco e appunto l'impressione complessiva è quello di un mondo in movimento dominato dalla preoccupazione di riconoscere e certificare le traiettorie di ascesa di ascesa sociale direi che l'attenzione alle forme del risiedere è alnesso con gli spazi urbani e anche al capitale simbolico costituito dalle immagini e dalle sepolture ecco è anche per l'ambito lombardo superiore è stato rafforzato in questi ultimi decenni da Edoardo Rossetti da Federico del 13 ecco in parte erano temi che aveva anticipato Patrick Boucheron per Milano ma direi che dal punto di vista dell'ottica familiare dell'ottica della famiglia che si propone appunto sullo scenario sullo scenario nazionale sullo scenario scusate statale ecco c'è stata in questi ultimi anni una maggiore una maggiore una maggiore attenzione adesso mi avvio appunto alla seconda parte del mio intervento mi soffermo appunto brevemente su Ferrara e Mantua anche in funzione di quanto dirò dopo a proposito delle città venete ecco di Ferrara si parlerà molto in questo convegno ecco è sorretta credo dalla migliore tradizione e continuità di studi fra tutte le città padane negli ultimi 50 anni da Gundersheimer a Chiappini a Trevor Dean a Marco a Marco Folin e ha una ricchezza ad esempio di fonti narrative appunto particolare ecco sottolineo però un caso un caso particolare che è quello appunto dell'affermazione per esempio delle famiglie delle città soggette alla corte di Ferrara ecco il contesto della corte ferrarese comprende appunto uno zoccolo duro di famiglie che vivono appunto sulle investiture ecclesiastiche e sulla gestione da parte del duca dei patrimoni ecclesiastici e del controllo diciamo così del sistema del sistema cittadino ecco ma per Reggio Emilia i casi degli scaioli e dei bebbi ecco studiati da Carlo Baia Guarienti hanno dimostrato che appunto anche in quel caso non si può prescindere né dalla corte né dal contesto né dal contesto del contesto municipale diciamo ecco per quello che riguarda Mantua appunto c'è stato circa 25 anni fa un lavoro che a tutt'oggi mi sembra insuperato Isabella Lazzarini nel suo volume Fra un principe e altri stati ha dedicato circa 220 pagine a come dire una rassegna delle famiglie e modelli di servizio ecco nella quale appunto ha passato in rassegna questo tipo questo tipo questo tipo di di questa campionatura appunto di famiglie di famiglie cittadine ecco facendo una una serie di osservazioni direi tipologiche molto interessanti anche nella prospettiva poi della proiezione della proiezione di immagine ci sono i grandi clan legati al passato consorzi come gli abati o gli agnelli o i della torre di Mantua che vivacchiano sulle terre episcopali rimasuglio delle dell'elite buonacolsiana e gonzagesca del primo del primo momento no grandi consorzi perché la taglia e le dimensioni di questa famiglia sono un dato importante stando alla schivenoglia la parentela Andreasi è costituita da 34 nuclei e complessivamente 185 maschi quindi capite che come dire la definizione di una politica culturale da parte di una galassia di una nebulosa familiare di questo tipo è sicuramente problematica ci sono poi seconda tipologia personalità che appartengono a casate dotate di forza autonoma non organiche a Mantova e che si muovono in qualche misura su uno scenario padano i lupi di Soragna gli strozzi i suardi il castiglione quindi origini bergamasche origini appenniniche no? ecco che hanno però appunto questa relazione questa relazione con 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 Mantova ecco e ci sono poi le intersezioni significative con Ferrara con Ferrara e con e con e con Verona ecco sei o sette famiglie veronesi i Dabroilo i Nikesola i Maffei i Dalisca i Cavalli ecco sono come dire strutturalmente presenti alla corte di Mantova ecco questo è un dato interessante dal mio punto di vista dal punto di vista appunto di chi intende studiare questa quella copertina che vi indicavo prima ecco dal punto di vista di chi intende studiare appunto le prospettive politiche e i network sociali delle elite cittadine delle città soggette come Vicenza come Verona come la stessa Padova come a suo modo a suo modo treviso ecco in qualche modo anche in Toscana anche se il modello delle relazioni Pistoia-Firenze e Pisa-Firenze è profondamente diverso perché c'è una dimensione come dire clientelare ecco è un una tentacolare presenza medicea nelle relazioni familiari che dà una caratura diversa anche se recentemente anche per Pisa si è sottolineato il fatto che esiste comunque un ceto un ceto un ceto un ceto dirigente un ceto dirigente dirigente locale ecco allora che cosa succede in queste succede in queste città succede che sono queste le città che più di tutte soffrono per la come dire ridefinizione del quadro politico ecco mi è capitato diverse volte di scrivere che il vero spartiacque della storia politica e sociale della città di Verona non è il 1405 come così una stanca tradizione filo marciana sostiene ma è il 1387 è il momento nel quale la città perde la sua importanza la sua autonomia politica dopo 250 anni ecco e il momento nel quale le le famiglie della classe dirigente si trovano a doversi riparametrare a dover ridefinire le loro relazioni rispetto a Pavia rispetto a Milano ecco le loro le loro le loro le loro strategie ecco e questo stato di cose si aggrava per Vicenza per Verona e per la stessa Padova appunto nel corso nel corso nel corso del quattrocento perché perché gli sbocchi di carriera politica al di fuori delle mura urbane ecco sono ermeticamente bloccati ecco è un discorso notissimo che ci porta addirittura al settecento alla fine della Repubblica Veneta al consiglio politico di Scipione Maffei alla Repubblica di Venezia nella quale in sostanza gli dice siamo ricchi come voi colti come voi dinamici forse più di voi abbiamo fatto carriere militari che voi non avete non avete fatto ecco non ci avete voluto al governo dello Stato adesso vi arrangiate non lo dice naturalmente in questi termini il discorso è diverso ma la relazione cioè l'impostazione del discorso è esattamente è esattamente questa ecco questo significa però che nel nel corso del quattrocento appunto le prospettive di carriera politica e di come dire esercizio di una funzione pubblica al di fuori delle mura della città sono ridotte al lumicino abbiamo dei casi rarissimi qualche giurista padovano o un Bartolomeo Cipolla che va a rappresentare la Repubblica alla dieta di Ratisbona nella seconda metà del quattrocento ma sono veramente esempi che si contano appunto sulle dita sulle dita di una mano naturalmente non è assente un ruolo militare subalterno di qualche importanza non mancano patrizi vicentini che sono collaterali della Repubblica di Venezia o patrizi veronesi come gli allegri che sono capitani della fanteria quindi il discorso non va naturalmente poi assolutizzato e naturalmente non mancano non mancano le strategie per coltivare per ampliare un network relazionale la prima è l'università ecco non è vero quello che si dice usualmente che Venezia impone nel 1405 l'esclusiva frequenza alla Università di Padova ai sudditi è un discorso che come dire concretizza lentamente nel tempo e assume poi forme anche abbastanza costrittive ma nel 400 i patrizi vicentini i patrizi veronesi i patrizi bresciani frequentano a Ferrara frequentano a Bologna ecco frequentano appunto altre sedi altre sedi universitarie anche Padova naturalmente e costruiscono lì e costruiscono lì relazioni ecco un altro tema al quale appunto si accenna è il problema che è come dire sostanzialmente ignorato anche dalla storiografia significativa che ha dedicato attenzione a Vicenza con James Grubb a Verona con me stesso della politica matrimoniale c'è una prevalente endogamia all'interno di questi all'interno di questi di questi patriziati ecco ma c'è appunto anche un tentativo di andare oltre ecco quindi finisco subito l'investimento del capitale relazionale per ottenere prestigio e affermazioni adeguate alle proprie aspirazioni non può contare solo sulla dimensione pubblica il privato non conta meno del pubblico c'è l'onore della casata da affermare e da tutelare c'è il palazzo o la villa da costruire la tomba o la cappella della quale essere gius patroni appunto l'eventuale legame matrimoniale esogamico da costruire ecco allora che le famiglie patrizie veronesi e vicentine non potendo guardare a desto verso Venezia per stringere amicizie o parentele nobilitanti in termini generali poi è chiaro che le eccezioni ci sono o per interfacciarsi con poteri sovrani guardano a ovest verso la Lombardia a nord verso il Trentino Signorile e dopo un po' anche verso un po' verso anche l'impero ci sono delle frasi straordinarie sul modo con il quale i patrizi veronesi guardano questi poveri Castelbarco che restano in Vallagarina no signoreti che hanno però una giurisdizione de per sé no ecco quindi questa dimensione di 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 in qualche modo appunto gratificante della relazione con i d'arco per esempio o con o con quello che resta dei 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 Castelbarco ecco finisco dando esempi più concreti eh su su Verona è uscito qualche anno fa un libro di cui non ho la copertina da tenere d'occhio di uno storico sud tirolese che si chiama Lantzner che insegna o lavora oggi a Londra e che ha fatto un interessante paragone fra Lilla e Verona un libro costruito su tre o quattro comparazioni cittadine di città appunto periferiche in questo periodo a cavallo fra 300 e 400 che presenta appunto degli interessi ecco ma quali sono gli ambiti nei quali sui quali puntano questi veronesi del 400 per andare al di là delle mura il primo è l'ambito delle armi e della vita militare a Verona fu stampato e ristampato precocemente il derai militare di Roberto Valturio Francesco Aleardi è biografo di Francesco Sforza Pietro Salerni è segretario di Roberto Sanseverino Laura Brinzoni Schioppa scrive poesie in onore di Roberto Sanseverino Mariotto Damonte e cancelliere di Erasmo Danarni ai grandi capitani appunto vengono dedicate composizioni letterarie e questo è un primo aspetto un altro aspetto di grande rilievo che riguarda un gruppo modesto numericamente ma significativo è quello del funzionariato itinerante circa 25 anni fa studiando i committenti di Pisanello i pellegrini ecco mi ero è abbastanza impressionante come dire l'inventario dei beni di questa famiglia gli elmeti pro e undo in magistratura le penne di struzzo le armature da parata ecco c'è un apparato come dire che viene come dire scientemente creato e finalizzato per questi scopi per questi obiettivi di prestigio che devono certificare l'importanza la presenza della famiglia al di fuori del contesto urbano allora Tommaso Pellegrini capitano del popolo a Firenze Gian Nicola Salerni Podestà di Siena Jacopo Lavagnoli capitano del popolo a Firenze e poi senatore a Roma Tommaso Dalborgo Podestà di Rimini ecco e via e via e via e via e via di questo passo ecco le sirene ferraresi attirano e Cristino Francesco Bevilacqua che già portò la spada innanzi al Marchese come ricorda il Caleffini quando Borso d'Este prende il potere ecco dal cronista i Bevilacqua sono sempre menzionati come veronesi anche se nel contempo antiqui zentilomeni de Ferrara e leaders della parte popolare l'interscambio fra Verona e Ferrara è incessante Turchi Mazzanti Lavezzola Guarino ecco c'è c'è una come dire una serie di relazioni relazioni significative Mantua ho già citato qualche ho già citato qualche caso quando nel 1439 c'è la guerra fra i Gonzaga che si alleano con Filippo Maria Visconti e Venezia ecco il Consiglio dei Dieci che aveva le sue paranoie ecco fa una lista di 140 cittadini che appunto cittadini romase con il Marchese e dopo se reduce a Ferrara e in altri luoghi ecco cortesani del Marchese ecco quindi c'è un'area una sfera appunto abbastanza ampia ripeto bisogna farci la tara perché il Consiglio dei Dieci vedeva le ombre dappertutto diciamo naturalmente scottato come era dalle vicende militari di quel momento ma è significativo appunto che in una città che ha un punto vicina che ha un potere appunto riconosciuto formale e nobilitante attiri diciamo così fortemente le famiglie le famiglie le famiglie le famiglie cittadine ecco un ultimissimo caso è quello dei Banda una famiglia di origini mercantili e imprenditoriali la Naioli che a fine del Quattrocento arrivano a vantare per pruriti umanistici rispetto a Caterina Cornaro Regina di Cipro origini o esperienze cipriote sono imparentati con i Martinengo in strette relazioni con i genovesi Campofregoso che sono un ramo dei quali vive a Verona ecco Andrea Banda filosofus eccellentissimus Daniele che è il noto architetto dilettante che sovraintende alla loggia civica alla loggia di Fra Giocondo ma nello stesso tempo sono sono in contatto con Ercole d'Este e offre al Duca per accreditarsi un manoscritto miniato oggi noto come Uffiziolo Estense quindi anche in questo caso attraverso come dire prodotti umanistici attraverso relazioni di carattere culturale si cerca un accreditamento si investe in un capitale sociale e culturale che ha un raggio una portata più ampia più vasta rispetto a quello che è il contesto politico mi fermo qua grazie professore per la sua interessantissima presentazione ora interrompo la condivisione e chiamo il professor Gianluca Meri che è collegato da Genova ok Gianluca Meri è professore associato di storia dell'arte medievale all'Università di Genova e autore delle monografie Luca Fieschi cardinale collezionista mecenate 1300-1336 edito nel 2011 e Lo specchio del principe i beni preziosi e il collezionismo di Donnello d'Este edito invece nel 2017 nel 2021 ha curato la mostra Dante e la Liguria maoscritti e immagini del medioevo il titolo del suo intervento è leggere le corti dietro e fuori gli inventari invito il professore a vedo che ha attivato sia il microfono che la telecamera a condividere lo schermo Buongiorno spero sentiate e vediate se vediate lo schermo sì 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 bene io ringrazio molto anzitutto gli organizzatori del convegno per l'invito mi congratulo per l'ottimo programma molto ricco e ringrazio naturalmente l'academia di degli agi in effetti il mio interesse per gli argomenti del convegno è nato ormai diversi anni fa quando dedicai le mie tesi di laurea al ciclo arturiano della torre di Trugarolo le mie ricerche finiranno per svolgersi in parallelo alla mostra le stanzi di Artur con l'Alessanzia del rito Castelnuovo in cui gli afreschi furono esposti al pubblico per la prima volta e non mi soffermo naturalmente su questo argomento che verrà trattato tra poco con uno sguardo più fresco al giornato del mio ma lo ricordo come spunto iniziale del mio intervento per un aspetto puntuale che credo pertinente se infatti ignoriamo quale fu l'antigrafo miniato del ciclo dipinto nella camera tra l'anzalotti di Trugarolo nemmeno sappiamo quale fosse il suo arredo né quello dell'antica curti sururale che il committente Andreino Trotti adibbia a sua dimora poiché che io sappia non ne possediamo un inventario se soprattutto gli studi di Maria Luisa Meneghetti hanno contribuito in modo determinante a impostare la lettura e l'interpretazione del ciclo il confronto con un inventario potrebbe ovviamente darci un'informazione contestuale e più completa dei modi in cui il cavaliere Alessandrino manifestò la sua adesione al sistema di potere dei disconti imitandone il pastoso stile di vita cortese far decorare le dimore con cicli dipinti di storie profane e redarle con razzi e altri oggetti preziosi era infatti solo un aspetto della civiltà a cui il Trotti è partenito altrettanto importante era il ruolo della cultura protomanistica sottesa a queste imprese decorative come ha insegnato Giulio Suanetti Schlosser sull'Apocale Studio già citato ma insomma naturalmente non posso non tornarci sulla tricorta tardo-medievale proprio gli inventari come è noto sono le fonti principali cui Schlosser attinse per dare forma a quel contributo dedicandovi ampio spazio ma non le sole fonti poiché queste sono integrate con altri reper documentari dalle lettere alle descrizioni storiche dai libri di conti ai testi letterari come ha ben evidenziato nella sua densa prefazione una riduzione italiana del testo un altro studioso che è giusto qui ricordare Gian Lorenzo Mellini questo metodo filologico delle fonti artistiche scritte consentì a Schlosser di dare concretezza storica al tema dell'arte di corte individuando le comuni strutture sociologiche nei suoi diversi centri generatori attraverso un'analisi in cui l'attenzione al dato formale era sovrastato da altri più ampi interessi ma che metteva comunque in una luce inedita il potenziale informativo delle fonti inventariali che proprio in quegli anni erano oggetto di edizioni ancora oggi fondamentali fonti complesse portatrici di una propria retorica che originava da fattori endogeni al loro ambito di realizzazione e che quindi possono fornire insostituibili testimonianti sui particolari aspetti della vita delle corti che più interessano lo storico dell'arte che compensano in parte le molte distruzioni di opere o alterazioni di luoghi per contro proprio il legame con le specifiche esigenze amministrative di quei micro contesti sociali e più in generale con i loro accadimenti di volta in volta usuali o eccezionali è all'origine di dislivelli nella qualità informativa dei singoli inventari che perciò dove possibile fanno studiati comparativamente tra di loro rispetto alle altre fonti una pur minima casistica davvero minima e classica insomma di come questa situazione possa toccare gli argomenti del convegno può partire direi dalla corte gonzaghesca di Mantua dall'acquivita produzione camerale trequattrocentesca è doveroso segnalare almeno l'inventario dei beni di Francesco I stilato dopo la sua morte nel 1407 studiato soprattutto per quanto riguarda l'importante nucleo librario esso è noto anche perché fu redatto secondo un principio topografico che censiva anche le stanze le relative decorazioni ci dice che accanto alla camera Lanzalotti citata nel processo del 1391 contro Agnese e Visconti ne esistevano altre dedicate a Ercole agli imperatori ai paladini nonché alle figurazioni di animali ora è senz'altro plausibile che il procedimento di origine antica è sovente impiegato anche alle corti dei Valois che qui dovettero essere il modello diretto fosse stato scelto tanto per l'esizionalità dell'occasione quanto per l'esigenza interna di ricognizione patrimoniale e di certo il documento che ne scatturì un vero e proprio specchio della corte che spicca sugli altri simili immediatamente precedenti e seguenti la maggiore specializzazione del procedimento tipologico con cui questi ultimi furono redatti raggruppando invece i beni per categorie non è però meno utile frutto di esigenze più incalzanti e puntuali di cui ci si può fare un'idea scorrendo il libro di Stefano Locato del 2005 oltre naturalmente scorrendo ai documenti stessi l'organizzazione del testo così concepita si focalizza su elementi di volta in volta diversi come i gusti individuali o il valore venale dei pezzi ovvero sugli spazi specificamente dedicati alla custodia patrimoniale e trasmette in modo vivido le conoscenze su materiali e tecniche oltre a permettere un riscontro sulle nuove accessioni e sulle vicende dei beni nel corso del tempo e ragionare su un filo di questa continuità documentaria nel contesto contagesco mi dà la grata occasione di ricordare Ilaria Toesca e i suoi studi sul ciclo di Pisanello nei quali riconosciuto il corale aralbico delle esse nel pregio e nell'armatura di vari cavalieri si dava conferma della sua presenza a corte in base alla lettera di investitura di Enrico VI di Inghilterra alla marchese Gianfrancesco del 1436 per poi riportarla al 1416 attingendo proprio dagli inventari camerati mentre oggi si declama ancora la necessità davvero di un'edizione completa e commentata di quei testi straordinari che già alla fine del 300 elencano spettacolosi gioielli smaltati insieme a monili quasi preziosi cammai antichi i saggi della Toesca compiuti esiti del paradigma sull'osteriano usciti pochi anni dopo l'edizione italiana del testo curata da Medini nel 1965 non solo fornirono allora una chiave di lettura inedita determinante per il ciclo dipinto ma visti alla luce di quanto dicevo offrono altri spunti di riflessione anzitutto sulla diffusione in Italia dei gioielli smaltati su Rombos circa il 1400 ormai al centro di un dibattito più argomentato e specifico poi sulla natura degli inventari redatti secondo appunto lo schema tipologico è vero che la loro modulazione per così dire più specializzata rispetto a quelli redatti con il criterio topografico si deve circostanze diverse nel caso dei Gonzaga si pensi ai molti spostamenti di gioielli in occasione di viaggi impegni ma questa stessa caratteristica se da un lato avverte che ci si trova davanti solo a un frammento del metaforico specchio della corte di cui parlavo dall'altro invita più puntuali considerazioni tipologiche che andranno incrociate con il tema che in questi decenni cruciali è sotteso a entrambe le modalità di classificazione e cioè quello collezionistico al di là delle distinzioni troppo nette i documenti vanno dunque analizzati piuttosto secondo una lettura tanto puntuale quanto contestuale che integri tutte le fonti disponibili si vede ad esempio dalla corte di Ferrara in una vicenda di conservazione documentaria un po' meno fortunata è l'inventario topografico dei beni mobili conservati nel palazzo Stenzer dato nel 1436 da Pietro dei Lardi per volere di Nicolo III la fonte che ci informa dell'esistenza di camere dipinte con temi del tutto analoghi a quelli già testimoniati a Mantova e di inclusa la camera dell'antiloto in cui abitava Margherita Gonzaga e in questo caso l'occasione è l'avvicendamento dell'ufficiale deputato del Drafamento e se non vi è dubbio che la finalità precipua della definizione fosse una verifica patrimoniale trova che un testo di tale ampiezza e complessità dovesse essere accolto non come un semplice strumento amministrativo bensì come elemento di autorapresentazione della corte un concetto simile naturalmente può valere anche per Manto ma è il caso di Ferrara può valere anche per l'inventario delle castalderie del 1458 di cui penso poi si parlerà in altre occasioni del movimento ma vorrei brevemente ricordare proprio per la sua natura del tutto diversa l'inventario dei beni preziosi di Leonello appunto che ho interamente pubblicato iniziato nel 1442 dal camerlengo Pietro di Schiveto è dedicato alle zoglie argentiere veste e altre robe della guardaroba estense e viene continuato in una redazione quasi diaristica e più o meno dettagliata fino alla morte del Marchese nel 1450 lo cito qui per tre ragioni anzitutto perché la stesura progressiva e mirata a specifici beni del patrimonio di corte fa emergere con più precisione i tratti di continuità o al contrario le cesure nelle vicende patrimoniali e non solo per esempio è qui che compare appena acquistato il riferio di Montalto qui vedete in una elaborazione rispondente allo stato che arriva nel 1450 quando viene acquistato qui che con i grandiosi pezzi analoghi illumina un aspetto inedito dei gusti di Leonello e contribuisce a spiegarne molte scienze mecenatesche vanno poi rilevati in essi che da questa angolazione legano altri impatti artistici della corte apparentemente slegati se i molti gioielli di visa che sono citati nel testo con la giavatura tedesca con o senza in moto vasto si possono collegare al progetto grafico di Citanello oggi alla biblioteca nazionale richiamando pieno il suo ruolo di artista di corte altri monili con pietra perle e smalti trovano una trasmissione letterale nelle muse di Belfiore che acquistano così se possibile un valore rappresentativo ancora più emblematico infine osservare che un testo pur così importante per ragioni varie non comprende opere intimamente legate alla cultura della corte come le medaglie dello stesso Citanello e gli arassi avverte che è sempre necessario il riscontro con altre fonti anzitutto di tipo contabile come quelle valorizzate da Adriano Franceschini e Marcello Tofanelli ma voglio ricordare come esempio metodologico il lavoro di Nello Porti Grazzini sul patrimonio raffiero la dimostrazione del fatto che se gli inventari offrono una visione inevitabilmente parziale per interrogarne le potenzialità informativi per pieno bisogna percorrere le vie delle corte in molte direzioni anche inaspettate ecco vorrei dare concretezza a queste considerazioni uscendo un po' da questo tracciato dedicare la seconda parte del mio intervento a un caso puntuale che si avvicina direi al convegno sicuro geograficamente centri ma credo possano allinearsi agli altri per cui trattare non è inedito poiché fu presentato anni fa da Antonia Borlani di una storica dell'economia ma è senz'altro assai poco noto avendo ottenuto solo sporadica attenzione negli studi anche per questo mi sembra utile riportarlo all'attenzione questa stessa si trase infatti di una testimonianza proprio quattrocentesca purtroppo perduta di pittura profana la cui funzione politica dovette risultare evidente ai contemporanei originando per i contenuti luoghi in cui era destinata da quella apertamente celebrativa che mosse il comitente il contesto a cui mi riferisco è Genova nel primo dogato di Tommaso Campofregoso salito al potere il 4 luglio 1415 la sua famiglia di cui egli era appena diventato capo era di origine popolare ma in specie nel corso del 300 conseguì una ricchezza un prestigio una rete di alleanze finanziari e parentali con la gentilizia cittadina sali da farne assurgere i membri alle più alte cariche politiche e militari figlio dell'ammiraglio Pietro e nipote del doge del doge di questo domenico Tommaso si segnala per la non comune abilità la formazione umanistica la spregiudicatezza l'inclinazione al fasto e al nepotismo che gli permisero di orientare per decenni la vita politica genovese questo anche grazie a una rete di relazioni per esempio con Caralesi di Esti Malatesta guardando alle quali egli plasmò uno stile di vita principesco trasmesso dai contemporanei per la sua magnificenza ma anche perché fumatrice di una esperienza di governo critico signorile avvertita come eccezionale per genovese come scrisse l'analista Giovanni Stella infatti Tommaso e i suoi fratelli apparivano cito magnanimi e molto onorabili brillano per vesti apparati cavalli splendido seguito e per il forte governo fine della citazione una situazione insomma che rievoca quella di una corte seppure calata in una città dalla pugnace antica vocazione comunale ora la memoria della perduta testimonianza pittorica è affidata unicamente a un testo encomiastico di un osservatore d'eccezione una cosa insomma appunto quella che si diceva prima una via un po' inaspettata se volete c'è già il nostro Manetti ambasciatore a Genova tra l'aprile e il maggio 1437 poco più di un anno dopo la sollevazione del dicembre 1435 con cui la città si era liberata dal dominio di Filippo Maria di Sconi iniziato il 3 novembre 1421 con l'accordo dello stesso doge campopregose indosso a capitolare affronta una preponderante alleanza militare stretta fra il signore di Milano e il re Alfonso da Ragone nella reacquistata autonomia cittadina Tommaso cercava l'appoggio di Venezia e di Firenze per formare una lega anti-discontente e inviò perciò nel 36 diversa ambasceria a Firenze e la causa della città a tal punto suscitò l'ammirazione del Manetti da indurlo a spiegare una laudazio della città e dei suoi abitanti spingendolo poi a proporsi in prima persona per la missione genovese in quell'occasione nella vicinanza con il campo pregoso lo portò a comporre una seconda laudazio indirizzata a lui princeps di un popolo vincitore sul tiranno e perciò degno del paragone con gli romani dell'età repubblicata dopo aver descritto la città e il suo territorio in episodi gloriosi della storia genovese il comunista fiorentino passa l'elogia del campo pregoso ricordando specificamente la vittoriosa spedizione condotta tra il 1373 e il 1375 e dal padre di Tommaso l'ammiraglio Pietro contro Cipro interamente conquistata facendo ricco bottino ostaggi principeschi impresa per la quale al trionfare ritorno in passi egli fu ricompensato con elardizioni e privilegi fiscali impresa che soprattutto dobbiamo vedere se ecco impresa che soprattutto su commissione di Tommaso venne poi narrata in immagini da un esimio nostro di tempo riscrittore come vedete dal testo nella Regiam Domum acquistata dal padre in un ciclo affrescato che ne presentava le fasi e a ordine utilizzata era l'opera dell'evidente finalità di glorificazione dinastica non poté però eternare davvero quel priongo poiché scrive Romanetti fu distrutta dai fautori del Visconti quando Tommaso perse la carica d'Ugale se a causa di questa precoce d'amnazio il Fiorentino non poté vedere gli affreschi di cui quindi parla di relato il passo offre comunque una testimonianza preziosa sebbene piuttosto la conica alcuni elementi tuttavia si possono desumere come viene ha fatto l'Antonio Borlandi vorrei riprendere e discutere brevemente quindi le sue argomentazioni e i problemi che si sollevano anzitutto la Regia Domus che ospitava il ciclo era il palazzo della famiglia Campopregoso situato nella parte occidentale della città presso il monastero di Sant'Omaso fondato nell'alto medioevo e distrutto tra il 1889 per costruire la stazione Marit il palazzo venne invece demolito nel 1539 per erigere le nuove mura cittadini ma è rilevato nell'avventura di Anonimo nel 1481 copiata a fine Cinquecento da Cristoforo Degrassi questa che ho inserito all'inizio che ne trasmette la mole imponente circondata da Giardini nell'austero prospetto di facciata si apre una teoria di Polizmo da riconducibili alla fondazione Tarcentesca e questo è il dato saliente del palazzo nato come dimora stiva dei doci ed entrato in possesso di Pietro Campopregoso dopo la vittoria di Cifrono non è chiaro in effetti se per acquisto per dono da parte del Comune non è dato vedere se fosse costruito in lacarizzi oppure in conci di Pietra squadrati con la tecnica impeccabile delle maestranze interviesime protagonista dell'esilizia pubblica e privata genovese fin dal XII secolo insisto su questo aspetto perché uno degli interrogativi sollevati dal subito riguarda la collocazione del Cifre all'interno ovvero l'esterno del palazzo cosmovilmente impacciato se è questa seconda possibilità che sembra aver trovato consenso nella scarna letteratura critica l'apparenza del palazzo nella grande veduta tanto patrocentesca mi porta a privilegiare invece la prima ipotesi per ragioni sia materiali sia storiche mi pare difficile pensare che un prospetto forato da sumi di mucature potesse ospitare un ciclo dipinto ne vi è alcuna testazione precisa che in quegli anni a Genova si distessero palazzi con facciate di ticte mentre l'unica descrizione utile è quella di Eneo Silvia Piccolomi che nel 1432 parla di palazzi a marmorea sculta figurisde insignita fa pensare piuttosto a corredi di statue o forse di lastre rapide e scolpite e infatti mi rimane uno specimen esemplare il pronte del palazzo di Giacomo Spinola di Luccoli definito nel 1459 Domus de novo edificata nel cui imparamento di Cromo alle polifore si alternano cinque inizie che ospitano stato degli uomini illustri di casa Spinola opere di Domenico Cagini e in un caso della Madeira il ciclo del resto il ciclo dipinto intendo potrebbe essere stato piuttosto ampio per narrare ordinatamente gli episodi dell'ospedizione di Cine noi dovete difettare l'impatto visivo se si pensa scene che non potevano mancare di cortei e di vere e proprie neumatiche la spettacolare tautenza della flotta da Genova con armigeri e catapulti la conquista di Pafo e Nicosia da parte di Don Daniano Castane poi la presa di Famagosta il trattato con il re Cipriota e il trionfale ritorno in parte mi pare più probabile insomma che Tommaso Campopregoso avesse concepita per la sua Regia Domus una camera titta pienamente in linea con la moda delle corte coelte di cui dovette pure avere qualche conoscenza anche diretta come già suggerito dalla Borlandi se la distruzione del ciclo si dovrà datare al 1421 agli inizi quindi del dominio di sconteo su Genova la sua realizzazione potrebbe risalire al 1415 quando Tommaso divenne d'oggi di per sé rilevante il problema della statazione è stato legato a quello dell'identità del suo autore una suggestione è stata colta infatti in un verbale dell'arte dei pittori Scudai di quello stesso anno dove tra le preponderanti presenti straniere quella di un Antonius De Pisis ha portato a chiedersi se l'esimio nostri tempo restrittore altri non fosse Pidanelli per escludere l'ipotesi penso basti ricordare che alla riunione del 1415 poterono partecipare solo i pittori attivi in città da almeno dieci anni ovvero dal 1405 nonostante l'incertezza sull'anno di nascita sulle vicende giovanili dell'artista di Pisanello la data mi pare decisamente precoce mentre ad un documento del 1416 possiamo inferire che egli si trovasse a Venezia che comunque negli anni in questione fosse inserito negli ambienti umanistici veneti ciò detto stabilire a chi si riferisse le manette quale artista si riferisse le manette in un testo di cui non si dovrà dimenticare il forte tono in ogni atto sarebbe un mero esercizio di speculazione vista la presenza in città accanto a maestri locali di pittori provenienti dalla Toscana dalla Lombardia come da Parigi e da Brucia la comunicazione con l'ambito franco-chiammingo in particolare era assicurata dalle moltissime presenti di mercanti genovesi debiti allo smercio di generi di lusso come le pietre preziose i gioielli gli o gli aratti di cui in quegli stessi anni Roberto Tonso e Oliviero Maruffo i genovesi erano intermediari tra Parigi e l'Inghilterra proprio le storie intessute sugli aratti fanno pensare gli appresti storico-celebrativi per la domus del campo pregoso ed è suggestivo credere che anche questi fossero stati concepiti sulla base di modelletti grafici di qualche pittore o miniatore davvero eximus e poi ugualmente corredati di preziose film del resto va ricordato che nel repertorio di una città ricca da tempo di esperienze anche esogene come Genova non mancavano prototipi validi come modelli per una simile impresa lo dimostrano direi soprattutto alcune tra le carte superstiti dello studio nascente codice Cocarelli come quella del Bargello con la scena spettacolare dell'assedio di Acri o l'altra che si trova a Londra con l'assedio di Tunisi o per altri episodio del ciclo quelle della British Library appunto rappresentano la morte di Filippo il Bello e il corteo di autorità genovese è anche da credere che per progettare il ciclo Tommaso abbia giocato un ruolo diverso da quello del nero e semplice committente non affidandosi unicamente alla sepienza compositiva del pittore ingaggiato dall'occasione autorizza a pensarlo tra l'altro un inventario di libri breve ma indicativo delle sue credenzioni è quello vergato il 20 novembre 1425 dal suo bibliotecario l'oratore Bartolomeo Guasto sulla carta 368 verso del manoscritto oggi Latene 5690 della BNR la biblioteca nazionale miscellana e dei testi antichi che include la storia romana di Livio il de bello troiano di Iti Cretese e altri realizzata a Napoli tra due e trecento e appartenuta a Petra il testo elenca i libri conservati nel pulcherrimo studiolo della residenza di Sarzana che il campo fregoso aveva ricevuto in feudo insieme a tutta la lunigiana nel 1421 come contropartita della rinuncia al dogato tra i titoli opere come l'Eneide o le storie giudaiche di Pagno Giuseppe ricordano ancora i soggetti di tanti razzi e insieme alle storie dello stesso Livio possono ben aver fornito tenni motivi al conceptore del ciclo dipinto forse lo stesso Tommaso o un membro della sua cerchia come Jacopo Braccelli il più importante umanista Liguer delle quattrocenti che egli volle cancellire della Repubblica è evidente la volontà in ogni caso di adottare codici comunicativi tipicamente cortesi pur in una realtà storicamente diversa come quella genovese mettendo in gioco opere suntuali e centrali nella vita delle corti come i codici miniati e molto probabilmente direi di erate ecco si torna per noi che studiamo questi fenomeni al paradigma sbosseriano trovato sul campo dell'esplorazione di tutte le fonti disponibili tanto più laddove come nel caso di Genova ecco appunto molto rimane da ricomporre e da studiare quindi mi sembrava un caso particolarmente interessante per il convegno e anche direi in linea con quello che volevo esporre anzitutto cioè il ruolo degli inventari il modo in cui noi dobbiamo guardare questi documenti così complessi che sono portatori di una propria retorica ma che ci danno informazioni che vanno poi sempre viste e studiate in modo comparativo non so se sono stato nei tempi ma insomma se si è capito tutto e si è sentito ma ecco questa era un po' la comunicazione che volevo su cui volevo confrontarsi con il presente grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie professor Ameri per la sua interessante presentazione poi ho molte domande molte riflessioni con cui poi condividerò con i singoli redattori alla fine di questa prima di questa prima sessione passiamo all'ultimo intervento della della seguente parte della mattinata e chiamo Cristian Zendri professore associato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento dove insegna History of Western Legal Tradition si è occupato di storia del diritto e del pensiero giuridico con particolare riguardo a dimensioni del diritto pubblico nei secoli XII-XIX il titolo del suo intervento è Immagorationis iconografia politica e diritto in Italia settentrionale nel secolo XIV-XV sono particolarmente felice di avere anche una chiave di lettura extra storico-artistica che ci potrà dare credo anche particolare stimolo in una riflessione su diverse ragionamenti allora io provo adesso a condividere i file non ne uso subito quindi c'è un certo tempo posso inchiarmi un attimo solo gli preparo il file già pronti possiamo fare che le fai ad aprire facciamo così ok benissimo grazie grazie dell'introduzione grazie dell'invito di aver citato anche la piccola proposta che avevo fatto quando c'era stata la call for papers sono particolarmente contento di essere qui sia perché questo è un luogo che mi è caro da robertano da ex no professore all'università è uno studente per tutta la vita quindi insomma da studente permanente diciamo sono anche un po' intimidito dico subito perché io non sono giustamente parlava prima Gian Maria Veranini non sono uno storico dell'arte nel modo più assoluto quindi spero di non entrare nel seminato di altri ho cercato di non farlo ho cercato solo di provare a offrirvi qualche riflessione dal mio punto di vista che è un punto di vista evidentemente molto specifico molto tecnico forse anche ma anche forse può contribuire almeno a a presentare una lettura diversa ecco di cose che peraltro sapete probabilmente molto meglio di me quindi se riuscisse ad annoiarvi credete che non si è fatto apposta il mio punto di vista è fondamentalmente quello della tradizione giuridica occidentale insomma cioè di un'esperienza giuridica che si snoda tra il secolo undicesimo e più o meno i giorni nostri e che ha una sua concezione del diritto molto peculiare una concezione che lo vedo in sostanza come una sorta di patrimonio immateriale intergenerazionale e che quindi prevede un'idea di diritto che non ha nulla di estratto immutabile ed è invece un continuo mutamento questo significa anche che non c'è da meravigliarsi se i confini tra ciò che è giuridico e ciò che non lo è fra diritto e non diritto si sono presentati nel corso di questo diciamo millennio in modo molto diverso a seconda dei tempi e dei luoghi non sono qui per tentare di riscoprire antecedenti più o meno di tentativi più o meno recenti di avvicinare diritto e discipline non giuridiche insomma tutte cose molto belle che sono venute così alla luce un po' negli ultimi anni diritto e letteratura diritto e musica diritto e arte c'è anche una rivista che è stata creata più o tre anni fa Law and Art io vorrei invece tentare di riscoprire con voi in essi o almeno provare in essi intimi che hanno legato il diritto e altre discipline tra cui quelle artistiche quelle pittoriche in particolare non soltanto mediante associazioni più o meno estemporane ma in modo intrinseco direi dal punto di vista del linguaggio comune il diritto ha intersecato le discipline non giuridiche quindi anche l'arte in modi diversi in particolare ha preteso questa è una pretesa del diritto dei giuristi abbiate pazienza di regolare le condizioni di legittimità dell'esercizio di tale discipline non solo lo ha preteso ma lo ha fatto e lo fa ancora oggi ad esempio nella compilazione che fu fatta preparare e fu approvata tra il 530 e il 534 da Giustiniano che noi conosciamo in modo proprio e improprio allo stesso tempo come corpus iuris civilis non mancano norme che disciplinano l'attività artistica o quantomeno che possono farlo come anche qualsiasi altra e lo stesso si può dire anche dell'altro grande flusso della tradizione giuridica che è quello del diritto canonico il diritto della chiesa insomma che ha disciplinato l'attività artistica ha disciplinato e disciplina l'iconografia sacra non dimentichiamolo mai ma c'è un nesso che mi sembra ancora più importante fondamentale fra arte e diritto e che discende dalla definizione stessa di ius diritto ius e stars boni e tequi il diritto è l'arte del bono e dell'eco il diritto quindi è arte questo dice giustiniano per capire cosa voglia dire io ho provato a chiedere qualche lume alla lessicografia giuridica verso il fine del secolo XII quindi un po' prima del nostro tempo ma insomma Uguccione da Pisa è fotore di un famoso e influentissimo lessico le derivazioni e Uguccione istituisce un nesso tra arcus arco e ars arte l'arco è l'arco semplice ha un formice curvato a regolare lo spazio e secondo Uguccione deriverebbe questa parola da arceo arcere la medesima origine avrebbe ars in quanto disciplina capace di sottoporre regole e di limitare l'azione degli uomini con queste regole questa funzione sarebbe la stessa sia per le arti liberali tra cui diritto sia per quello che Uguccione chiama artificium in quanto prodotto con l'uso delle mani evidentemente secondo determinate regole questa idea di un complesso di regole l'arte come complesso di regole che reggono il comportamento si trova anche in un'altra importante opera lessicografica che questa volta invece cade proprio nel tempo che ci interessa perché è il Dictionary Miuris del XIV secolo scritto dal Berico dallo Schale alla voce ars scopriamo che ars è collezio preceptorum ma anche che ars è pure la scienza del diritto civile e al contempo è anche l'ars meccanica che richiede attività manuale occorre aggiungere che la funzione dell'arte in generale è imitativa per quanto possibile e in ogni caso però la sua funzione fondamentale è quella regolativa è un'attività regolata e regolante nello stesso tempo però le arti liberali manifestano anche un ordine che le supera quello dei comandamenti divini divina mandata questa capacità di manifestare in mandata mandata è il termine tecnico per dire quello che noi diciamo comandamento la capacità di manifestare in mandata dipende in qualche modo dalla funzione imitativa dell'arte l'arte imita la natura che è la creazione di Dio e quindi anche Dio stesso e attraverso questa imitazione regola e nel caso o meno delle arti liberali rende manifesti i comandamenti divini dunque l'arte in quanto disciplina può manifestarsi anche nell'attività manuale anzi l'imitazione della natura in questo caso può assumere una forma speciale quella della pittura Uducione poniamo un attimo indietro ci ricorda che dipingere significa picturam facere vel picturam representare da ciò deriva giusto appunto a pittura nel senso di imago imago immagine dice sempre Uducione è l'espressione della species di qualcosa il termine è evidentemente tecnico e sudesigna la bellezza ovvero la forma di qualcosa o di qualcuno e in particolare la forma propria o la qualità propria di qualcosa o di qualcuno risultante dalla combinazione degli accidenti e dalla disposizione delle parti in questo senso species sembra evocare le regole a cui abbiamo accennato allo stesso tempo però per Uducione la species è qualcosa di diverso dalla veritas della cosa la pittura infatti sarebbe in certo qual modo tante paretimologie molto interessanti una fictura così che pingere sarebbe per così dire un fingere e il suo esito una imago ficta non la veritas se torniamo al nostro alberico la sua dottrina è un po' più complessa primo punto importante la distinzione fra pittura e scultura il fondamento giuridico di tale distinzione si trova nell'autorità del codice di giustiniano precisamente il codice 1 24 libro primo titolo ventiquattresimo de statuis et imaginibus attenzione però che come succedeva sempre non è tanto l'allegazione del testo giustinianeo che importa fino a un certo punto ma quello della glossa ordinaria che sta attorno al codice ed è interessante perché è un rinvio non tanto a un testo di legge ma a la scienza giuridica vale a dire a Lars Boni e Tequi insomma direi che è come se l'arte fosse interpretata dall'arte più in particolare la glossa qui allegata definisce esattamente la differenza fra stato immagine dipinta affermando che mentre nel caso della scultura nulla vi è usa un'espressione così un po' negativa nulla vi è che non desini le figie dell'uomo nel caso della pittura questo non avviene la distinzione è rafforzata dall'allegazione di un passo del digesto che afferma la possibilità di costituire un usufrutto su stato immagine una cosa molto giuridica anche in questo caso il rinvio è naturalmente non al testo giustinaneo ma all'insieme formato da testo e glossa e come succede di solito lo stile degli glossatori prevede una duplice interpretazione a noi scegliere una prima possibilità interpretativa prevede che i due termini scultura pittura stato immagine siano interscambiabili più o meno la stessa cosa la seconda interpretazione invece sottolinea che la statua è la figura dell'uomo mentre l'immagine è solo pittura in particolare il termine figura è estremamente connesso al verbo fingere nel significato di figura dell'uomo e di forma della natura però i testi civilistici sembrano in fondo usare questi due termini scultura pittura stato immagine in modo promiscuo senza una precisa differenziazione è il grito canonico che invece distingue con attenzione e infatti Alberico a questo punto inserisce un'osservazione per immagine si deve intendere solo la pittura l'immagine dipinta la legazione canonistica che segue subito mostra le ragioni di un'estinzione così precisa è un testo del secondo concilio di Lione del 1274 e fa riferimento a una consuetudine singolare in occasione della deposizione di un chierico usava prelevare statue e immagini sacre della sua chiesa gettarle a terra e tormentarle con spine ortiche quasi in segno di ulteriore punizione e umiliazione del chierico indegno la costituzione lionese vieta una simile pratica la distinzione attenta tra immagini e statue nasce certamente dalla volontà di reprimere la consuetudine di cui si è detto sia per le statue che per le immagini e si dice attenzione sono cose diverse ma la regola vale per entrambi insomma l'immagine dipinta per questa glossa non solo è differente ma in qualche modo è inferiore rispetto a quella scolpita e però al contempo l'immagine in senso proprio è solo quella pittorica questa distanza che sembra separare nella mente dei giuristi l'immagine dal suo modello si è però anche la natura più intima di questa immagine e in qualche modo conferisce all'arte pittorica io questo lo trovo interessante un'autonomia altrimenti inesperabile Alberico ricorda che per immagine si può intendere ancora una volta quella di Dio e dell'uomo la creatura di Dio non è semplicemente una copia imperfetta del suo creatore essa è conserva l'impronta del suo fattore ma è indipendente da esso per così dire autonoma e proprio perché non è la copia perfetta può avere una sua vita potremmo dire che la sua stessa imperfezione le consente di essere qualcosa di diverso dal suo modello e quindi di esistere indipendentemente da esso insomma l'immagine allo stesso tempo è e non è l'oggetto rappresentato e questa particolare forse anche un po' paradossale condizione giuridica dell'immagine è confermata da alcune altre osservazioni di Alberico da Rosciate per ogni tutto quella secondo cui il termine immagine è talora utilizzato per disegnare gli inganni le illusioni di matrice diabolica l'immagine frutto di arte diabolica l'immagine mentale naturalmente quello che io vedo nel sogno suscitato dal diavolo è solo un inganno un'illusione ispirata nelle menti dal demonio essa quindi non assurge esistenza autonoma se non come illusione distanze e autonomie sono affermate dal brico anche quando si parla di risolvere l'immagine nella memoria del modello l'autorità in questo caso è un testo raccolto nel decreto di Graziano metà XII secolo sempre diritto canonico è dedicato al culto delle immagini nella tradizione cristiana le immagini sono venerate in memoria e ricordo e solo in questo senso sono oggetto di limitata adorazione anche questo quindi sembra porre una distanza che in questo caso è incommensurabile fra immagine e modello però questa distanza non deve essere tale da rendere l'immagine e modello privi di una connessione lo dimostra un testo molto interessante sempre del decreto di Graziano relativo alle immagini del Cristo è il divieto di rappresentare il Cristo in forma di agnello perché? perché nell'età della grazia è necessario rappresentare il redentore nella sua immagine umana Alberico sottolinea che l'immagine può dunque essere immagine di animali bruti ma anche l'immagine della ragione immagurazione ci torniamo su questo cioè immagine di essere umano in questo caso quella del Cristo che poi è anche qualcosa di più insomma ma il testo mostra la necessità di un rapporto di fedele rappresentazione fra immagine e oggetto rappresentato per cui imago è sì fictura ma equivale anche a similitudine insomma il diritto sembra riflettere intorno ai problemi che solleva la rappresentazione artistica e pittorica in particolare assumendo come sfondo l'esperienza che i giuristi potevano avere dell'arte ma argomentando sulla base di autorità che sono esclusivamente almeno in questo momento giuridiche o al massimo scritturali se ci spostiamo un po' che consideriamo un contemporaneo più o meno del pericolo da riusciate cioè Bartola Sassoferrato il maggior giurista di quei secoli troviamo la formulazione molto chiara dell'idea di un primato della scienza civile il diritto dei doctores sulle altre scienze e a maggior ragione sulle attività che scienze non sono come la pittura la ragione di questo primato risiede nel fatto che la scienza giuridica sostiene tutte le altre ma non è sostenuta da nessuna detto altrimenti è la scienza giuridica a porre le condizioni di legittimità dell'esercizio delle altre scienze e arti e questo è vero anche per la pittura il diritto condiziona la pittura profondamente e in modo decisivo qui ricordo semplicemente è stato ricordato prima giustamente il caso della pittura infamante che è un mondo a parte ma in cui la connessione fra diritto e arte pittorica è strettissima insomma ottenendo anche esiti abbastanza curiosi l'infamia che colpisce il rappresentato tende a stendersi anche al pittore perché al pittore tende ad estendersi lo statuto giuridico del boia in quel caso il pittore è il boia e che spiega perché molto spesso i pittori non fossero così entusiasti di dedicarsi a questo tipo di attività io vorrei ora soffermarmi se posso su qualche esempio tre quattrocentesco scusate mi rendo conto di entrare in un campo che non è mio ma chiedo veni in anticipo sperando che non sia questa mia scusazione non sia un accusazio troppo manifesta e chiedo anche scusa perché fra gli esempi ne ho scelto uno non propriamente settentrionale ma che qualche connessione con non solo il diritto che non è diciamo così locale in questo caso perché si parla di scienza giuridica ma Italia Centrale Italia Stentrionale sono a mio giudizio molto più strettamente unite di quanto alle volte si pensi insomma i passi appennini ci uniscono molto più di quanto li ditano il primo esempio è quello famosissimo e per cui sono molto timoroso degli affreschi sinesi di Ambrogio Lorenzetti che noi probabilmente conosciamo come allegorie del buono e del cattivo governo edizione impropria ma non ha importanza ciò che qui mi interessa è soprattutto la presenza di vasti cartigli e più in generale i testi che fanno parte integrante del ciclo pittorico Chiara Frugoni che recentemente si è occupata in un bel libro peraltro di questa cosa tentando di offrire un'interpretazione complessiva del ciclo ha studiato parallelamente giustamente immagini e iscrizioni ma quali funzioni svolgono tali iscrizioni beh se teniamo in conto la lezione dei testi giuridici che ho cercato di presentarmi la funzione è almeno duplice da un lato colmano l'insufficienza della rappresentazione pittorica cioè dicono quello che l'immagine da sola non riesce a dire dall'altro però fanno qualcosa di più la collocazione di testi o di singole parole in corrispondenza di rappresentazioni fondamentali svolge mi pare lo stesso compito che la tradizione giuridica ha segnato alle glosse se queste ultime infatti hanno per scopo quello di spiegare nel senso letterale di esplicare bene questo è esplicare letteralmente povera pagina va bene di esplicare il significato delle parole e dei loro nessi e se in particolare conseguono questo risultato di volta in volta correggendo ampliando o restringendo il significato delle parole a cui sono apposte ciò accade anche per quelle vere e proprie glosse per me almeno è la proposta che vi faccio apposte da Lorenzetti qui abbiamo se riusciamo la prima immagine dovrebbe essere quelle jake pay c'era una solo una serie diciamo con la prima cena 1 si vede la rappresentazione generale in alto c'è la rappresentazione della sapienza con il titulus sapienzia dunque diciamo ecco l'allegoria della sapienza che sovrasta l'immagine della giustizia con la bilancia apre una prospettiva interpretativa che altrimenti resterebbe chiusa perché l'arte professata dai giuristi è la giustizia la quale per le sue caratteristiche è proclamata all'inizio del digesto vera filosofia vera ricerca della sapienza qualcuno direbbe che è una solenne sparata però questo leggevano i giuristi nel digesto e questa giustizia che anche questa porta una glossa c'è forse sia una due che la specifica meglio ma insomma no tre allora mi mando scusa ecco è in realtà il primo versetto del libro della sapienza diligite justiziam vos cui iudicatis terram può essere interpretata grazie a queste glosse come quella justizia da cui ius appellatum di cui parla il digesto infatti fine del judicium è proprio il ius dicere che deriva da justizia che questa maestosa giustizia tenga in equilibrio i piatti di una bilancia su cui si trovano altre figure allegoriche la giustizia commutativa e quella distributiva si può spiegare certamente in molti modi con tradizione teologica e filosofica ma anche credo con quella giuridica intanto occorre ricordare la definizione di giustizia tramandata dalle istituzioni giustiniane constans et perpetua voluntas ius sum quicoe triquens quindi la volontà costante e perpetua è di dare a ciascuno il suo il suo diritto dall'altra la jurisprudenzia che è chiamata anche civilis sapientia consiste nella notizia delle cose divine umane nella scienza del giusto e dell'ingiusto è una scienza che è anche sapientia infatti i giuristi sono chiamati sapientes e si articola nei tre celluli dei precetti oneste vivere alterum non ledere sum quicoe tribuere inoltre la funzione dei giuristi sempre dal digesto consiste nel distinguere l'equo dall'iniquo il lecito dall'illecito rendere gli uomini buoni non solo con il timore delle pene ma con le esortazioni che nascono dalle ricompense allora vediamo le queste allegorie sul piatto di sinistra nella bilancia la giustizia distributiva incorona un buono la ricompensa e decolla un malvagio la pena il volo riceve la corona signore di onore onos e quindi forse possiamo dire vive oneste il malvagio ha perduto una daga la si vede per terra con cui evidentemente le debba talterum sul piatto di destra la prossima cortesemente ecco la giustizia commutativa consegna a due personaggi uno staio una stadera una canna oggi si sa che sono questi oggetti si tratta ancora di dare a ciascuno il suo naturalmente in questo caso di misurare correttamente la giustizia consegna unità e strumenti di misura a due personaggi ciò avviene certamente i personaggi sono due perché l'atto di misurare presuppone una relazione però questi strumenti sono anche strumenti di misura di peso di lunghezza e capacità e quindi assolvono ogni comune possibile misurazione che avviene appunto giuridicamente pondere mensura et numero e poi ognuno dei personaggi venditore acquirente è tenuto a usare lo stesso strumento per lo stesso tipo di merce non consegna due stai due stadere no lo strumento è uno solo un'ultima osservazione commutare significa anche rendere a ciascuno bene per bene e male per male e qui c'è un passo evangelico molto famoso il Luca 636 e adem quippe mensura quamensi fu eritis remetie tur bovis per inciso il versetto in questione fa parte dello stesso capitolo sesto del Vangelo di Luca in cui si legge il celebre monito contro l'usura Luca 635 il versetto prima che è la base per tutta l'elaborazione giuridica molto undate nei l'indesperantes qualche altra osservazione faccio così velocemente dalle due figure giustizia distributiva e commutativa scendono due corde di colore rispettivamente rosso e bianco giustizia la giustizia che decolla al colore rosso l'altra giustizia bianco e si intrecciano poi in unica corda impugnata da concordia Chiara Frugoni ha interpretato questo giustamente come una parete emologia di concordia da cum corda suonare assieme l'armonia eccetera è giusto io potrei forse aggiungere che il loro colore mi pare corrisponda alla distinzione tra giustizia alta di sangue e giustizia bassa che non prevede il versamento di sangue quanto a concordia non sarà male a ricordare che la principale opera canonistica porta il titolo di concordia discordancium canonum nel senso proprio di armonia e poi dobbiamo dimenticare il diritto civile Giustiniano ancora lui aveva autorizzato le interpolazioni dei testi raccolti dai suoi compilatori per realizzare l'armonia della tradizione giuridica e l'idea è raccolta da Dante no Cesare fui e sono giustiniano che per il volere del primo amor che io sento dentro le leggi trassi il troppo e il vano concordia qui raffigurata adesso possiamo fare un'altra ecco qua mi entratiene in grembo un oggetto che la Frugoni interpreta come una cassetta da carpentiere da cui spunterebbe una pialla e sopra si è detto concordia Chiara Frugoni ha visto bene nel contrapporre questo oggetto alla sega di divisio che sta presso da tiranni ed esattamente di fronte ma non ha sottolineato una cosa la pialla rendia non tanto all'appianamento delle discordie quanto alla rimozione di ciò che è superfluo inutile dannoso in modo da permettere a due pezzi di combaciare esattamente proprio come Giustiniano e Dante volevano e poi dico forse un po' malinterpretato l'oggetto perché lei pensa una cassetta da carpentiere no questo ve lo dice il nipote di un falegname questa è una pialla grande ma è una pialla perché non si può usare una sponderuola per piallare la trave di una capriata questo è qualche esempio ma vorrei fare qualcun altro così un po' più vicino a noi poi mi avvio a concludere alcuni celebri e freschi realizzati nella casa delle guardie del castello di Sabionara d'Avio tra l'altro studiato a suo tempo da Gian Maria Varanini tra questi in particolare quelli raffiguranti dei soldati in duello ho fatto anche delle cose ma non so se si veda molto bene perché Avio mi pare sinistra e destra scusate ma io uno vale l'altro se riusciamo ad aprire perché intanto sono esattamente uguali eccolo qua si vede abbastanza quale duello i due combattenti usano due piccoli scudi rotondi e due spade a me questo fa pensare a un duello giudiziario a un giudizio di Dio questo è confermato fra l'altro dalle norme sul duello giudiziario del Sachsen Spiegel che prevedono spade scudo rotondo niente elmi niente armature ed anche da alcuni passi del Liber Papiensis raccolte di Ditto Longobardo e Franco vigenti in Italia e questo potrebbe anche gettare una luce diversa sul nesso che la critica ha stabilito da tempo di questo affresco con il celebre taccuino di schizzi e modelli conservato presso una Morgan Library dove ci sono proprio due combattenti in questo modo quindi possiamo dire che potrebbe essere anche testimoniata della sussistenza peraltro il nostro per paciente di questa forma di giudizio di Dio ancora alla fine del Trecento in questi paraggi l'arte sembra parlare anche quindi anche se non solo la lingua del diritto della giurisprudenza e il diritto sembra sforzarsi di parlare la lingua dell'arte o almeno di adattare la sua voce all'arte un ultimo esempio è una riflessione notrinale poi chiudo l'esempio è quello che ci è suggerito dagli affreschi della Torre dell'Aquila a Trento già evocate anche prima nel mese di se vogliamo ecco qua sì il mese di maggio il primo e dopo vediamo che è particolare questo è un particolare l'altro è scusatemi l'attiva riproduzione ma si fa con i mezzi che si ha il mese di maggio a suo tempo Niccolò Orasmo scriveva è interamente dedicato agli sbagli primaverili dei signori ma c'è un particolare interessante qua lo vediamo più o meno a metà altezza una giovane coppia abbigliata suntuosamente con in capo due corone è seduta in disparte sull'erba le mani nelle mani se vogliamo vedere il particolare forse eccola io non credo che sia solo un gioco mi permetto di suggerire un'interpretazione differente forse è un vero matrimonio celebrato come ammetteva largamente la tradizione giuridica civile e canonica pre-tridentina in presenza di nessuno con la sola partecipazione degli sposi né prete né testimoni che non sono necessari per niente i quali esprimevano il reciproco consenso per verba dei presenti una promessa al presente io ti prendo come moglie io ti prendo come marito non al futuro al presente adesso ciò che mi spinge a crederlo non è solo il fatto che sia rappresentato proprio il mese di maggio che come sapete viene dopo il tempo proibito dei matrimoni che finiscono con l'ottava di Pasqua ma anche la gestualità nella fresco ci sono quattro coppie appartate e intente in varie attività ma solo in questo caso ci sono le mani dei due che sembrano congiungersi in un gesto che ricorda mi pare la dexterarum diunctio posto che in quest'opera le parole mancano mi pare che sia questo gesto a fungere da glossa e glossa giuridica alla scena aggiungo una notazione che mi è venuta a rifare anche se non saprei quanto valida entrambi i giovani portano una corona ma non è una corona di fiori come succede spesso non mi pare almeno questi mi sembrano oggetti un pochino più lussuosi più duraturi è un uso antico della liturgia matrimoniale un uso che è stato conservato nella chiesa ortodossa ma che nella chiesa romana è attestato almeno fino al secolo IX dire poi quanto questo eventualmente possa essere sopravvissuto in altri contesti non lo so tuttavia la propongo torniamo alla dottrina l'ultimo file è quello con la scrittura la dottrina in questo caso non è quella giuridica è il da pittura di Leon Battista Alberti eccolo qua all'inizio del libro II Alberti scrive quel passo là io lo riassumo così la pittura è arte di rendere presenti almeno nel ricordo di assenti qualcosa che abbiamo già trovato in Alberico da Rosciate ma dici qualcosa di più poi io ho messo a raffronto alla vostra sinistra il testo dell'Alberti e alla vostra destra quel testo di Bartolo l'assassoferrato che ho citato prima che è un discorso un discorso pronunciato per il dottorato di suo fratello in entrambi questi tè in Alberti troviamo di nuovo rinnovato il nesso fra pittura e scultura la competizione la rivalità fra esse qui Alberti lo risolve in favore della pittura al di là della differente soluzione il problema è posto in modo così vivo che mi pare interessante perché individua una sorta di diarchia tra pittura e scultura su cui dobbiamo tornare soprattutto però la pittura è arte regina nel senso che essa sostiene e alimenta le altre in qualche modo l'è legittima e ne pone le condizioni di esistenza mentre non è vero il contrario e questo è talmente vero che essa sfugge secondo Alberti ai limiti delle altre arti meccaniche sia perché il pittore secondo la tradizione non è un Faber lo scrive chiaramente sia perché proprio per queste sue caratteristiche la pittura si adatta bene anche liberalibus ingenius all'intelligenza che coltivano le arti liberali Bartolo dice qualcosa di interessante e di simile dice che la scienza giuridica è scienza regina perché sostiene tutte le altre e pone le condizioni di legittimità di tutte le arte la logica la filosofia il diritto canonico hanno bisogno della scienza civile ma non il contrario e ciò che la scienza civile dichiara essere illecito ad esempio la matematica nel senso della numerologia nel corso di Giustiniano c'è un titolo dei malefici siete mathematicis è vietato ci fa una sola eccezione solo la sacra creologia dice Bartolo vede suppositam a sé la scienza civile non credo di raggiungere molto il giudizio dell'Alberti richiama molto da vicino quello di Bartolo sulla giurisprudenza civile la pittura arte regina la giurisprudenza civile arte regina nel suo campo entrambe arte pittorica e a civile sapienzia sostengono e legittimano le altre nei rispettivi campi entrambe condividono la loro eccellenza con un'altra disciplina la teologia e la scultura è vero che l'Alberti dichiara di preferire comunque la pittura mentre Bartolo sembra dire che la teologia sia superiore alla civile sapienzia ma ne è poi così convinto è stato messo in dubbio entrambi inoltre hanno qualcosa di divino se noi teniamo conto della formazione giuridica di Alberti che è fra l'altro l'autore di un Deiure non farà forse troppo strano ritrovare qui la lingua della giurisprudenza parlata però dalla pittura e per la pittura insomma tenendo conto che razio significa certo facoltà nazionale ma anche ragione vale a dire diritto perché l'altro significato di ragione è diritto ragione civile ragione criminale possiamo forse concludere che se certamente la razio cioè il diritto si fa carico dell'arte dell'immagine del suo linguaggio anche quest'ultima arte assimilando la lingua della ragione diritto diventa davvero e in un senso che mi pare interessante imago razionis per tornare al punto di partenza scusatemi se vi ho inviato grazie grazie mille grazie mille professor Zendri non ci ha assolutamente annoiato lo dirò con sicurezza di me queste connessioni extra che vanno oltre il terreno abbastanza consueto degli studi condotti storici e l'arte medi è molto sollecita anche varie riflessioni rispetto agli affreschi che abbiamo visto cioè le varie interpretazioni di cose che normalmente leggiamo in maniera in un modo che un altro occhio invece interpreta in maniera diversa allora io chiamerei entrambi i redattori che hanno avuto in presenza qui sul tavolo noi ci mettiamo la mascherina perché non possiamo mantenere il metro di distanza e dare inizio a e dare inizio alla discussione e se qualcuno vuole già anche da casa ricordo che da casa si può partecipare scrivendo via chat se si vuole solamente scrivere oppure alzando la mano e proponendosi per per intervenire vocalmente inizierei io con una riflessione avrei tantissime cose da chiedere e su cui e su cui discutere e inizierei chiedendo al professor Varanini se nelle nei vari percorsi di ottenimento di un certo status sociale da parte delle varie famiglie diciamo fuori dalla corte si può leggere parafrasando anche un po' i titoli dei dei saggi dei volumi dalle citati un po' un modello di successo che funziona o se vige molto l'aspetto camaleontico cioè se ci sono delle situazioni che in qualche modo hanno una ricorrenza se delle dinamiche familiari hanno portato molto facilmente alla riuscita delle scarate sociali e se ci sono quindi queste chiavi di lettura unica oppure se è un po' tutto frutto di una serie di concatenazioni diciamo che si svincolano un po' da una lettura generale raccogliamo varie domande come si sono se ci sono altre domande volentieri se no si può iniziare a rispondere a questa sì beh sì insomma è una domanda così molto complessa cioè in pratica così come viene accumulato e come viene diciamo speso questo 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 prestigio ecco credo che così risolvere una volta per tutte questo discorso diciamo non si possa in molti casi mi sembra anche quelli nei quali il prestigio viene acquisito appunto in trasferta poniamo nell'ambito della corte ecco è raro che le le relazioni con la città di partenza con l'ambito cittadino di partenza vengano diciamo tagliate in toto ecco lì discorsi appunto molto complessi nel senso che c'entrano molto anche i modelli familiari cioè come dire la tendenza generale è quella alla disaggregazione dei grandi nuclei parentali ecco e alla subordinazione dinastica e patrimoniale per i meccanismi di tutela del patrimonio di maggiore scato o che so io all'interno di un contesto diciamo così eh di eh di famiglia ecco credo che il test più interessante potrebbe essere quello della dei destini in termini di immagine non so se qua gli amici che si occupano di Lombardia possono dire qualcosa ecco rispetto alle città che esprimono eh queste famiglie che fanno fortuna alla corte sforzesca per esempio ecco e che mantengono però a Parma a Piacenza vigevano a Como ecco un luogo di esibizione che può essere eh vabbè in ambito etesiastico eh la tomba familiare dovunque in questi aspetti li ha studiati benissimo appunto questo uno di questi studiosi Lombardi Federico del 13 soprattutto per i centri minori dell'alta dell'alta Lombardia quindi applicando appunto ai centri minori meccanismi meccanismi urbani ecco ma naturalmente c'è poi anche il palazzo cittadino ecco quindi sì direi che c'è questo questo meccanismo di di così di andata e ritorno ecco e anche credo una una comparabilità nei eh diciamo nei destini di gruppi o di tipologie di famiglie ecco eh ripeto le variabili sono molte eh perché non sono certi dirigenti omogenei quello di Verona che esemplificavo prima è uno dei meno disomogenei nel senso che c'è una grande parte di queste famiglie patrizie che non ha vere origini aristocratiche quando ce l'ha spesso come Malaspina sono eh nobiltà di di importazione diciamo no ecco che vengono in città e si radicano o il campo fregoso stessi che vengono in città e si radicano ecco ma la gran parte del ceto dirigente è di origine scaligera di origine due trecentesca in alto e anche Padova credo sostanzialmente non so il modello della genesi trecentesca del patriziato padovano secondo gli studi di collodo e altri altri ceti dirigenti cittadini hanno profili più complessi si pensa a Brescia o altro ecco e allora lì è più difficile vedere appunto questi meccanismi di andata di andata e ritorno ecco quindi una non risposta diciamo ma c'è una variabilità direi di fattori ecco che vanno ecco direi che in generale appunto queste radici con la città di partenza non vengono recise cioè non c'è un vero trasferimento spesso talvolta è proprio la città di residenza il luogo dove spendere questo credito relazionale o anche questa diciamo immagine moltiplicata e più alta che viene acquisita mediante la relazione con gli este piuttosto che con l'imperatore e poi spesa spesa in città ecco grosso modo penso che i meccanismi possano essere questi c'è una domanda forse c'è meglio si viene se vuole venire qua ah si si mi volevo collegare a questa cosa dello speso in città perché professor Varanini impostava uno schema in cui il successo della famiglia aristocratica era naturalmente una volta che c'era un cambio di regime facciamo conto appunto Scalige di Visconti Repubblica Veneta di avere successo col nuovo dominio politico però mi pare abbastanza evidente almeno a Verona che quando capiscono che non c'è tanta trip per Gatti a Venezia creano una specie di sottile contropotere che i veneziani tollerano ma continuano anche a guardare con sospetto quando fanno tutti i dipinti per la loggia del consiglio per celebrare la città di Verona su richiesta di veronesi non fanno nessun episodio di vittoria Scaligera il che è una spia indiretta che queste famiglie sentivano fortemente la loro origine Scaligera tranne uno cioè l'uccisione del traditore che è il quadro di Ottino Sufregnano e poi se si leggono le relazioni dei direttori veneti insomma in certi periodi fanno fatica a controllare questi che vanno in giro con le squadriglie che fanno il bello e il cattivo tempo quindi è un po' come l'impressione che nel momento in cui non hanno questa capacità di accreditarsi come posso dire si creano loro dei contropoteri che tengono in un faticoso equilibrio con il podestà di turno il capitano mandato da Venezia di turno sono abbastanza d'accordo cioè come è noto c'è una dimensione di gestione strutturata e consensuale del potere locale cioè dei margini di autonomia del certo dirigente cittadino che è in grado a Verona come a Brescia come a Vicenza di come dire fare delle cose quindi di proporre un'immagine diciamo collegiale del certo dirigente perché questa è la loggia del consiglio cioè l'orgoglio cittadino che si manifesta in forme in forme diciamo politiche sulle quali c'è diciamo un certo consenso una certa capacità appunto sia pure con nervosismi che come è noto sono più più forti a Padova che non a Verona nella comparazione fra le città venete e sia pure con nervosismi ma come dire viene tenuto sotto controllo cioè lì si dimentica sempre appunto nel paragone fra le società tardo-medievali delle città Venete Verona Vicenza Padova anche Padova e Treviso e le città Lombarde Emiliane che c'è cioè la situazione è abissalmente diversa abissalmente diversa se si va nella Parma del Quattrocento con le fazioni con le 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 barricate all'interno della città perché questo è il quartiere dei San Vitale e questo è il quartiere dei Rossi ma scherziamo cioè ci sono contesti diciamo così anche nei quali come dire la pulsione familiare no? quella che come dire l'idea del clan e della fazione che nelle città Venete è tenuta a bada è tenuta a bada dal punto di vista politico viene fuori in modo pazzesco cioè in modo manifesto diciamo lo ha studiato Gentile lo hanno studiato appunto gli studiosi gli studiosi ecco la dimensione che avevo cercato di valorizzare in questa in questi piccoli esempi che avevo fatto è questa diciamo così di una di una cosa diciamo più buona che si muove più sul piano del prestigio culturale della ricerca dell'immagine il che non significa che fossero stinchi di santo e che se c'era da darsi di spada o da offendersi perché quando imbrattano con gli escrementi umani la facciata dei sagramoso oppure fanno pitture oscene sull'altra c'è anche questo naturalmente ci mancherebbe ci mancherebbe altro ecco mi limitavo semplicemente a dire che c'è questo meccanismo della ricerca di un prestigio fuori porta e diciamo che alimenta il prestigio privato della famiglia famiglia che fa parte facevo prima l'esempio dei Banda ricercano il rapporto con gli estensi ma non è che sono fuori con Caterina Cornaro eccetera ecco ma non è che sono fuori del diciamo del contesto dell'establishment cittadino tanto è vero che Daniele Banda è uno degli architetti della loggia della loggia del consiglio quindi sì ecco è vero ci sono ci sono queste queste forme di equilibrio diverse quanto alla rimozione dell'età scaligera sono sostanzialmente d'accordo insomma c'è anche nella elaborazione delle genealogie incredibili alla Roberto Bizzocchi ecco è abbastanza raro che si rivendichi l'origine scaligera si va indietro si dice noi siamo venuti con gli ottoni noi siamo venuti con gli imperatori siamo aristocratici e qua e là e sul giù e poi Maffei a un certo punto che li sbugiarda tutti dice questi qua si inventano chissà che io sono discendo da notai bolognesi fuoriusciti venuti a Verona con i Lambertazzi ecco ma c'è questa rimozione dell'età da scaligera dal punto di vista della memoria collettiva del patriziato c'è ecco è una rimozione che sottende anche però una classica consapevolezza beh in Ogarola falsificano le tombe scaligere addirittura falsificano la tomba di Mastino nel 400 facendola risalire al 200 comunque si è un argomento complesso molto complesso sì ricordiamo la famosa definizione di Berengo nobiltà e patriziato il caso veronese cioè a Verona un conto sono i Nogarola i Malaspina in parte i Bevilacqua e in conto tutto il resto compresi quelle che diventano conti nel 400 comprandosela da Federico Terzo o da Massimiliano dopo la fase di Massimiliano scusate volevo chiedere invece al professore se posso Vengri è citato Bartola Sassuferrato che io conosco di più per il Descini e Settarmis all'epoca quando l'ho studiato l'avevo inteso come una sua esigenza di mettere ordine fra una realtà in una realtà di fatto dove la Raldica andava un po' per conto suo o per regole non scritte questa cosa può valere anche per le cose che ci ha detto per la pittura cioè diciamo così quanto la realtà e il diritto si inseguono quanto questi mettono ordine o sentono il bisogno di mettere ordine quanto invece è il contrario Sì grazie beh insomma realtà e diritto sono in realtà in realtà in qualche modo sono la stessa cosa nel senso che il il giurista se è giurista naturalmente deve continuamente misurarsi con quello che noi generalmente chiamiamo realtà vale a dire il giurista non ha il privilegio se vogliamo del teologo del filosofo che può discutere dell'uomo in generale perché prima o poi l'uomo prende un nome un cognome un volto e si presenta davanti al giudice e chiede il suo questo è il punto allora ogni discussione giuridica per quanto possa essere rastratta deve tenere conto naturalmente quello che un po' pomposamente si chiama dell'inveramento del diritto che avviene sempre evidentemente alla fine davanti ad un giudice quindi non c'è dubbio che il giurista abbia questa esigenza quella di interpretare i fatti che ha davanti e di dare ai fatti una dimensione giuridica quali che siano questi fatti può essere appunto il problema della raldica o dei marchi commerciali quello che vogliamo può essere come nel caso del discorso del dottorale di cui io accennavo il problema della gerarchia dei saperi perché quello è il problema probabilmente in un momento in cui si comincia a mettere in discussione la tradizionale gerarchia dei saperi che vedeva le sette arti liberali come propedeutiche diciamo così e poi le discipline superiori teologia diritto e medicina come culmine della sapienza ecco è probabile è possibile che quel discorso in realtà tentasse di mettere a punto la questione perché c'era qualche problema c'era qualche discussione come lo fa però lo può fare soltanto in un modo cioè lo può fare soltanto appellandosi ad autorità perché il giurista non è un legislatore questa è il vero la vera grande difficoltà per quanto Bartolo fosse autorevolissimo autorevole al punto di poter introdurre lui di sua iniziativa e lo dice lo scrive nel corpus ius civilis la legislazione pisana del ricco settimo perché lui ce la introduce lo scrive a chiare lettere però non è legislatore per fare questa operazione bisogna dell'autorità non dell'autorità ora quale autorità beh l'autorità certamente dei testi giuridici non civili e canonici ma non solo questo questo è il punto l'autorità può essere anche di altro autorità di poeti i giuristi citano frequentemente i poeti quando non sono poeti si stessi cino la pistola va bene autorità di teologi Bartolo cita frequentissimamente Tommaso d'Aquino sarebbe interessante sapere se e in che misura anche l'arte la pittura la scultura potevano essere autorità io non lo so quello che ho cercato di capire è se esiste una comunicazione dei linguaggi no? tra discipline diverse e mi pare che in qualche modo esista in qualche modo esista naturalmente questo è più vero più facilmente riscontrabile per il 3-400 che non per il XII secolo questo è evidente insomma però mi pare che si possa dire che c'è un tentativo di parlare una lingua comune il primo accennato a diritto e qualche cosa ecco sarebbe bello che ci fosse diritto nell'arte e l'arte nel diritto nel senso che entrambe queste discipline si mischiano fra loro non sono semplicemente giuste apposte ma il diritto ha qualcosa da dire sull'arte e lo dice evidentemente e anche l'arte ha qualcosa da dire nel diritto e per il diritto e questo forse almeno per noi giuristi è magari più interessante ma anche più difficile perché intanto per il problema di formazione diciamolo pure semplicemente ma anche perché tende o può minare qualcosa a cui ogni studioso di una disciplina è affezionato cioè l'idea che la sua disciplina sia in qualche modo non dico autosufficiente ma insomma qualcosa del genere ecco in realtà io credo che l'ultima cosa che interessasse a un giurista come Bartolo fosse l'autosufficienza in questo senso è ristretto il primato sì ma l'autosufficienza no e in questo senso probabilmente anche quella che secondo me la reinterpretazione in un campo diverso che ne dà Leon Battista Alberti è interessante è interessantissima perché lui trasforma quel modello che peraltro non era solo un modello giuridico insomma la disputa delle arti che però è disputa sul diritto e sul ruolo del diritto prevalentemente era proprio a pari del 3400 quindi ma lui trasforma quel modello nel modello per una discussione all'interno dell'arte in cui la pittura surge a regina delle discipline insomma talmente regina da poter essere anche un'arte manuale però praticata onorevolmente perché lui lo scrive da principi da professionisti delle arti liberali qualcosa che sarebbe stato impensabile per la scultura naturalmente che questa è solo una visione probabilmente Michelangelo non sarebbe stato d'accordo ma insomma cambiano anche i tempi non è ecco dico che ha ragione lei quando dice che c'è questo connesso con la realtà è molto forte è molto forte ma non nel senso che il giurista tenda a semplicemente ad assumere la realtà ma tenda a interpretarla per trasformarla perché poi c'è l'altro problema ed è questo le norme giuridiche a differenza delle leggi di natura non sono meramente descrittive cioè non scrivono un fatto così come accade ma sono prescrittive perché direttamente gli uomini non hanno l'abitudine di agire in maniera così sicura fanno un po' quello che vogliono e quindi il problema è sapere che cosa vorranno fare e cercare di di guidarle in un senso o nell'altro mentre gli atomi non si incapricciano di andare qui o lì le persone possono agire in maniera così un po' in consulta e qualche volta un bene qualche volta un po' meno per cui il problema del giurista è proprio riuscire a mettere insieme tutto questo grazie buongiorno io avrei una domanda per il professore Tembri sì appunto parlo da abbastanza ignoranti in materia quindi chiedo nell'ambito delle fonti del diritto medievale ma anche anche oggi insomma la fonte iconografica ha qualche validità mi spiego a livello giuridico proprio quello che era figurato in un dipinto o una scrittura può essere considerato come prova o essere adotto come dimostrazione di un fatto beh sì certo che ha un ruolo prima si accennava alla pittura infamante è qualcosa di più che un strumento di prova è addirittura la pena stessa o una pena l'immagine in qualche modo può anche servire come come prova come si fa a provare la giurisdizione in un luogo si può provare per testimoni eccetera ad esempio che riferiscono che c'è stato che in quel luogo c'era la forca un po' brutale insomma non credo che sia difficile immaginare anche se non so in questo momento proporre un caso concreto ma che un dipinto che raffigurasse il luogo con la forca potrebbe essere considerato fra le tante possibilità anche di per provare qualcosa del genere ma i dipinti adornano anche i libri di diritto naturalmente in qualche caso anche in modo sorprendente anni fa mi era capitato di studiare brevemente poi non ho fatto nulla un manoscritto del Digesto un dei pochi manoscritti non glossati in circolazione perché di solito si glossava tutto questo manoscritto è accompagnato da miniature una per ogni libro che non sono semplicemente decorative ma riprendono in qualche modo il contenuto del libro che segue e però sono costruite sulla base di consuetudini locali del posto in cui verosimilmente il codice è stato trascritto è stato copiato così ad esempio nel caso del titolo De Nuctis c'è una procedura tutta una liturgia tutta particolare in uso quanto pare nel sud della Francia che prevedeva che i nubendi si avvicinassero carponi all'altare sotto un velo multicolore quando ho visto queste immagini mi chiesto cosa c'entra mi c'è voluto un po' per ricostruire tutta questa vicenda perché non è obiettivamente una cosa comune insomma anche perché normalmente le solennità del matrimonio non entrano nel tragi le azioni giuristiche in fondo ciò che fa il matrimonio è il consenso tutto il resto sono ammenicoli che dal punto di vista giuridico non contano perché se non appunto in serie di prova perché se hai visto che c'è stato il bacio se hai visto che c'è stato quello c'è stato questo allora se devo provare il matrimonio in qualche modo lo devo fare visto che magari nessuno ha sentito nulla non c'era nemmeno un testimone insomma ci sono una serie di difficoltà non ci sono registri nel matrimonio eccetera quindi sì le due cose hanno una una connessione è tutta da indagare tutta da indagare io credo a parte appunto qualche caso particolare come quello della pittura infamante che però è un caso molto peculiare più non so dire ecco confesso la mia ignoranza grazie leggo un intervento da parte della chat cioè se la progressione del prestigio sociale scolpisce il determinarsi del concetto di mecenatismo terminando chi è prescelto come portatore di energia altra rispetto al corredo genealogico disponibile la progettualità condivisa il fundraising e i bandi per l'affidamento possono svolgere la funzione di restituire a un territorio altro una sorta di potere riferibile e a cui orientarsi per comprendere e includere le culture globali veicolate tramite il flusso energetico demoniaco alternativo del denaro e dei numeri e penso che si possa connettere con quello che si diceva prima relativamente a rapporto tra le famiglie fuori dalla corte che arrivando a un certo livello sociale poi vogliono portare traccia di sé nelle loro residenze adesso esempi espliciti diciamo cioè se non capisco male l'idea è che come dire il prestigio moltiplicato o ha cresciuto o consolidato si trasforma poi in un mecenatismo a vantaggio della comunità penso che sia chiave di rettura ecco adesso sì sicuramente sì ecco non saprei portare esempi immediati e concreti ma credo di sì ecco quindi contributi alla decorazione di luoghi pubblici sicuramente sì ecco sicuramente credo che se non forse per questi contesti delle città soggette dell'Italia trequattrocentesca come dire non sia un tema che è messo a fuoco nell'insieme ecco almeno io ripeto non sono temi proprio che coltivo sempre ma non ho l'impressione di che ci siano quadri d'insieme diciamo ecco ce ne sono credo di più nell'ambito ecclesiastico nei battisteri dei duomi o delle cattedrali ecco ma nell'ambito civile pubblico forse meno però ripeto può essere mia ignoranza dunque la logica è sensatissima dipende anche da quello che ci è rimasto quindi dobbiamo sempre relazionarci con con questo benissimo ringrazio i redatori ringrazio anche il professor Ameri con cui magari abbiamo modo di continuare la discussione anche penso anche voi alla fine del convenio ci sono alcune cose che per motivi di tempo non possiamo far risaltare ma penso che la discussione finale possa essere il momento adatto ora direi di fare una breve pausa ci ritroviamo adesso sono i 33 ci troviamo alle 11.40 con la seconda sessione della giornata presento il prossimo relatore Simone Bonicatto che si è occupato sin dalla sua tesi magistrale dello studio della pittura nell'arco alpino occidentale nel 300 e nel 400 è stato borsista alla fondazione Longhi nel 2018 2019 e ora svolge un dottorato di ricerca presso l'Università di Ginevra ci presenta una relazione dal titolo alcune riflessioni sull'arte profana di primo 400 tra Ducato di Savoia e Marchesato di Saluzzo quindi immagino che vedremo immagini celebri del ciclo Castello della Manta ma forse anche parecchi cicli o dipinti meno noti gli cedo quindi volentieri la parola bene buongiorno a tutti ringrazio innanzitutto per l'invito Dario De Cristofaro e l'Accademia di Roveratana degli Agiati e bene appunto sarà un contributo sullo stato della pittura profana nella prima metà del 400 con un lieve sforamento nella seconda metà negli ultimi vent'anni in Piemonte si sono moltiplicati notevolmente ritrovamenti di affreschi e soffitti dipinti in castelle o di mora urbani e signarili databili principalmente tra 3 e 400 e parallelamente anche sulla scia sulla spinta della mostra del 99 dedicata agli affreschi di Frugarolo si sono via via susseguiti studi dedicati al tema della pittura profana della regione e in particolare dell'arco alpino occidentale tra Piemonte territori francesi e svizzere un tempo sottoposti al Ducato di Savoia tra cui meritano ancora una volta di essere segnalati gli studi di Simonetta Castronova a cui ha già fatto riferimento De Cristofaro tuttavia sono ancora molti interrogativi da risolvere riguardanti l'arte profana di questi territori non solo a causa di mancanza di studi che analizzino nel dettaglio le singole testimonianze ma soprattutto le ricerche di più ampio respiro che indaghino nel complesso le manifestazioni pittoriche e le loro evoluzioni all'interno di una particolare area politica in questa sede quindi ho ritenuto più utile non porre l'attenzione su un singolo esemplare bensì presentare vari casi e una prima analisi maturata assieme al collega Marco Fratini sul contesto della pittura profana di primo 400 nei territori compresi tra Ducato di Savoia eh eh tra Ducato di Savoia eh Principato di Savoia Caia evidenziati in giallo sulla mappa che qui presente Marchesato di Saluzzo eh in grigio ma che dal 1413 era entrato nell'orbita del Ducato di Savoia un'area geografica e politica che negli ultimi anni ha visto notevolmente aumentare il corpus delle sue testimonianze alcune ancora inedite ma che mostrano caratteri omogenei non tanto nella scelta dei singoli soggetti quanto nell'impaginazione decorativa delle proprie residenze per cominciare ecco nell'area presa in esame la più antica testimonianza nota del quindicesimo secolo è costituita dai celebri affreschi del castello di Fenice in Valle d'Aosta realizzati probabilmente nella seconda metà degli anni dieci eh del quattrocento su volere di Bonifacio prima di Chalant membro di una eh delle più importanti famiglie Filosabao de Valdostane all'altezza del pieno nobile del loggiato del cortile interno del castello una bottega legata ai modelli del principale pittore dell'area eh subalpina e uno dei principali il torinese Giacomo Iacuerio raffigura una serie di ventiquattro ritratti di filosofi saggi e profeti su un rigoglioso prato che si stagliano su un spondo unitario di colore verde decorato con mascherine quasi a simulare un drappo dipinto presumibilmente in anni di poco eh successivi attorno al 1420 un'altra equip fortemente Iacueriana realizzò il celebre affresco del cosiddetto salone baronale del castello di Manta residenza di Valerano il Burdo figlio illegittimo del marchese di Saluzzo egli rivestì un ruolo importante nella gestione dello stato e in un momento particolare molto delicato tra la morte del padre Tommaso III re marchese di Saluzzo avvenuto tra il 1416 e il 1417 la maggiore età del fratellastro Ludovico in un periodo in cui il marchesato era appunto stato assoggettato da poco da Mede VIII di Savoia qui a differenza di Fenis per la rassegna dei prodi delle roine e per una raffigurazione della fontana della giovinezza si decise di utilizzare un brillante sfondo bianco realizzato tramite una fine stesura di intonachino e non quindi lasciato a scialbo come hanno dimostrato anche gli studi di Bernardo d'Erzo Gabrielli la successione dei personaggi illustri veniva poi scandita da una serie di alberi da frutto su cui sono appesi gli stemmi immaginari ad essi corrispondenti ed è interessante perché nello stesso castello della Manta del resto si ritrovano altre due sale decorate con una simile impaginazione o meglio si trovavano ma in questo caso erano esclusivamente destinate alla cerebroazione araldica della famiglia di Valerano in particolare non popolate quindi da personaggi nel locale a nord si vede la figura di sinistra sono stati recentemente ritrovati alberi stilizzati probabilmente un biancospino perché impresa di Valerano realizzati in un secondo momento su una superficie già decorata con piccoli rametti probabilmente sempre rametti di biancospino mentre sulla figura di destra nel cosiddetto vestibolo si dovevano trovare degli alberi con stemmi nobiliari una recinzione ed è una decorazione che oggi è perduta ma fortunatamente replicata al borgo medievale di Torino a fine ottocento se la soluzione utilizzata Fenis non comparirà in altri ambienti profani nello stesso periodo e nella stessa zona la scelta di verziere su spondo bianco impiegata già alla manta nelle sue declinazioni quindi quale giardino in cui inserire armi e singoli araldici o quale quinta architettonica per ambientare figurazioni narrative dovette risultare particolarmente vincente in queste zone tanto che appunto verrà riproposto nella quasi totalità dei cicli profani o lacerti di pittura profana già noti o scoperti molti scoperti negli ultimi anni lungo l'arco alpino occidentale di cui vi mostro qui un elenco in arancione sono i segnati di affreschi ritrovati negli ultimi vent'anni sono notevolmente aumentati sono esemplari tutti databili a partire dalla fine degli anni dieci fino ai primi decenni del secondo quattrocento e in un tale contesto quindi ovviamente l'importanza e la qualità in particolare del salone principale della manta hanno condotto gli studi a considerarlo quale modello di riferimento anche per gli altri esemplari un assunto questo che merita tuttavia una riflessione il radicamento in terra saluzzese a saluzzo in particolare del motivo del verziere su sfondo bianco di recente è stato confermato dalla scoperta delle pitture che ornano il secondo piano di un palazzo saluzzo appartenuto alla famiglia celebre famiglia saluzzese dei vacca e si raffigurano sulla parete occidentale molto frammentaria un giovane una dama la presenza di un bastone tenuto dall'uomo e che compare anche a fianco della donna potrebbe forse far pensare a una rappresentazione di un gioco di uno svago cortese mentre invece sulla parete meridionale si trova solamente più traccia di un uomo selvatico raffigurato appunto nella figura destra la parete invece orientale è meglio leggibile nel suo complesso e qui compare appunto un musico a destra di un albero che aglieta la camminata nel verziere della coppia anche in questo caso le scene cortesi forse non legate a una precisa vicenda narrativa si svolgono in un giardino che si staglia su un brillante sfondale bianco realizzato ad un tonachino tuttavia l'artista qui attivo una ventina d'anni dopo la manta a giudicare dai dati di moda della capigliatura pare distanziarsi dalla pittura jacueriana mostrando forse nella finezza nel carattere minuto degli elementi del viso delle caratteristiche più vicine alla pittura lombarda un fatto questo che può già essere comunque chiamato in causa per evidenziare come la scelta di questa impaginazione del verziere sul fondo bianco per scene prefane o meno non fosse proprio di una singola bottega ma venisse impiegato da pittori anche culturalmente differenti ma il ritrovamento forse più significativo degli ultimi anni è un ciclo che si conserva nel castello di Monasterolo di Savigliano non lontano da Saluzzo ma già compreso ben compreso nei confini del Ducato di Savoia al centro delle contese tra Saluzzo e Savoia nel corso del 300 il castello di Monasterolo nel 1378 fu venduto per la notevole somma di 13.000 fiorini dal conte Amedeo VI di Savoia in quanto tutore di Amedeo di Savoia a Caia a Michelino Solaro esponente di un'importante numerosissima famiglia di origine astigiana arricchitasi attraverso il commercio e il prestito che in questi anni nel corso tra 3 e 400 riuscì ad acquisire diversi feudi tra Pinerolese e Saluzzese tra cui per l'appunto Monasterolo alla morte di questo Michelino Solaro il castello probabilmente ricostruito in questi anni passò alla figlia Franceschina e al suo secondo marito Giovanni Filippo anche lui Solaro ma di un'altra linea della famiglia documentato almeno fino al 1445 e a cui va ricondotta la commissione della decorazione interna del castello riscoperta durante gli ultimi restauri dall'architetto Paolo Fissore che ringrazio tra l'altro per le fotografie e la disponibilità in un primo momento i lavori di restauro presso una sala del piano nobile del castello posta lungo il perimetro orientale dell'edificio hanno fatto riemergere una decorazione unitaria che si articolava su tutte e quattro le pareti purtroppo in parte la cunosa è martoriata da numerose picchettature per tutti gli affreschi lungo il lato corto a nord il programma figurativo prevedeva una serie di alberi da frutto di specie differenti che crescono su un rigoglioso prato e che si stagliano nuovamente su uno sfondo bianco quasi una finestra aperta su un verziere al di sopra di uno zoccolo composto da un velario da una fascia decorativa in cui compaiono dei medaglioni riportanti lo stemma della famiglia solaro da azzurro a tre bande scaccate tre file d'oro e di rosso e la loro impresa una freccia dalla punta smussata che celebra visivamente il motto della famiglia del fier talmente fiero che non uccide sulle due pareti lunghe nella cornice in alto sono in parte riscoperte dagli indoneci successivi gli stemmi del duca di Savoia Amede VIII e della moglie di Amede VIII Maria di Borgogna ma il vero fulcro della decorazione era costituita dalla parete meridionale opposta a quella a cui si ecceteva dalla sala dedicata alla celebrazione araldica delle famiglie alleate di Giovanni Filippo Solaro a sinistra compare lo stemma e l'impresa una trottola accompagnata dal motto Avant dei Saluzzo di Cardè un ramo della famiglia marchionale dei Saluzzo ma ostile alla linea principale in quanto pretendenti al titolo di Marchesi e di conseguenza alleati ai Savoia la vicinanza tra i Solaro radicatisi in queste zone i Saluzzo di Cardè è anche attestata da legami matrimoniali tra le due famiglie come il matrimonio tra il primo genito del capostipite di questa linea cadetta Ugo Nino Saluzzo di Cardè e Giovanna Solaro lontana parente di Giovanni Filippo sulla destra invece compare uno stemma rosso con aquila d'oro affioncato da una collana probabilmente di corallo che rimane purtroppo ancora da identificare forse sono degli Aghi Bell nobili savoiardi mentre invece al centro nella posizione maggiormente onorifica non si doveva trovare lo stemma solaro bensì quello sabaudo come indicato dagli stemmi crociati sulla cornice verde il motto ducale Fert e il nodo sabaudo che ornavano la superficie azzurra di fondo più recentemente e cosa veramente di un paio d'anni in un'altra sala del castello di Monasterolo di dimensioni ridotte sul lato occidentale è emersa una simile decorazione raffigurante un verziere su un cielo bianco questa volta popolato da uccelli perduta completamente la presumibile cerebrazione araldica posta sul lato corto della stanza compresa in un finto da tappeto con frange e assenti stemmi nobiliari sulle cornici è possibile comunque che questa sala fosse destinata all'esaltazione araldica dei Solaro malgrado la consunzione della parte inferiore delle pitture sembrerebbe che al di sotto del giardino corresse una rincinzione a canniccio scandita da bastoni che in realtà non sono altro che frecce dalla punta smussata quindi un rimando all'impresa della famiglia e come si può vedere anche da in alcuni punti delle pitture dove sull'erba si vedono ancora le alette bianche rosse dell'impennaggio della freccia che era appunto in presa dei Solaro e al di sotto della staccionata poi tra una punta smussata e l'altra delle frecce si osservano delle iscrizioni una sola delle quali leggibile nella sua interezza interpretabile come Petrus e tra l'altro appunto mi chiedo se si possa essere in presenza di una rassegna genealogica dei padroni di casa perché appunto un Pietro Solaro compare tra i figli del Michelino Solaro che è primo acquisitore del castello di Monasterola fine 300 si configurerebbe così un programma decorativo dove nel salone principale di rappresentanza del castello l'ommaggio viene rivolto principalmente ai Savoia o alle famiglie alleate di più rinomato lignaggio mentre nelle sale minori magari destinata ad alloggi privati si celebra la famiglia proprietaria del castello di più recente nobiltà ma al di là dell'indubbio interesse che le pitture di Monasterolo rivestano per la loro qualità il ciclo commissionato dai Solaro gioca anche un ruolo fondamentale nell'analisi della pittura profana del Piemonte di inizio 400 in special modo di questa tipologia della decorazione dal momento che gli stemmi nobiliari consentono di proporre per questo ciclo un'adattazione piuttosto circoscritta almeno per il salone principale innanzitutto la presenza dello scudo proprio della moglie di Amedeo VIII Maria di Borgogna morta nel 1422 potrebbe costituire un termine antequem per le pitture di Monasterolo dall'altro lato molto più emblematica è l'assenza delle insegne araldiche dei principi di Savoia Acaia ossia uno stemma sabaudo ma attraversato da una banda azzurra signori di buona parte dei territori sabaudi piemontesi il Savoia Acaia avevano avuto alla corte molte volte avevano Giovanni Filippo Solaro Giovanni Filippo Solaro aveva svolto incarichi di grande prestigio presto i Savoia Acaia e tra l'altro i Solaro avevano acquisito il castello dei Monasterolo ufficialmente dai Savoia Acaia quindi la mancanza dello stemma Savoia Acaia fa pensare che la realizzazione del ciclo debba essere successiva all'estinzione di questo ramo cadetto della famiglia avvenuto nel 1418 l'11 dicembre del 1418 con la morte di Ludovico nulla osterebbe quindi ipotizzare che la decorazione del castello di Monasterolo fosse stata concepita da Giovanni Filippo anche con l'intento di celebrare il nuovo e unico signore dei territori sabaudi piemontesi il duca Mede VIII che già il 16 dicembre dello stesso 1418 a 5 giorni dalla morte del Savoia Acaia reinvestirà il solaro del suo feudo di Monasterolo la possibilità quindi di adattare la decorazione di Monasterolo poco dopo il 1418 e probabilmente prima del 1422 è ancora più significativa se teniamo conto di come negli stessi anni se non prima del ciclo della Manta una simile apparecchiatura delle superfici con un benziere su sfondo bianco venisse impiegata per decorare un castello di una famiglia nobile non legata al Marchesato ben sì decisamente Filosavauda per quanto Monasterolo appunto si trovi in un'area geografica prossima a Saluzzo e a Manta osservando la localizzazione degli esemplari che presentano la medesima impaginazione in tutto per ora 16 ma altre verifiche potrebbero aumentarne il numero va rilevato innanzitutto come essi siano stati realizzati per la maggior parte tra anni 20 e 40 del 15esimo secolo e risultino pressoché tutti ubicati entro i confini legati ai Savoia e non solo nell'area centro-meridionale del Ducato sia tra Pinerolo e Saluzzo Pinerolo era la capitale del principato di Savoia Caia ma anche a nord di Torino in Canavese e soprattutto in Valle d'Aosta territori quindi compresi entro i confini Savoiaardi e controllati dalla nobiltà fortemente legata al Duca tra i più recenti ritrovamenti meritano poi di essere menzionati almeno due testimonianze significative innanzitutto le pitture murali dipinte per lo più a secco riscoperte in una delle torri del castello Vescovile di Losanna quindi in territorio già all'estremità nord del Ducato raffiguranti otto alberi con scudi appesi purtroppo illegibili sopra un velario e per quanto la città si trovasse al di fuori dei domini Savoiaardi la realizzazione delle pitture va ricondotta grazie anche alla presenza dello stemma alla committenza del vescovo Guglielmo di Chalant in carica dal 1406 al 1431 che attorno agli anni venti diede avvio a nuovi lavori per terminare il castello di Losanna egli era quindi della celebre famiglia valdostana fratello di tra l'altro di quel bonifacio di Chalant che fece realizzare le pitture del castello di Fenice nonché politicamente vicino ad Amedeo VIII che voleva crescere il suo potere sulla città sul lago di Ginevra promuovendo l'elezione di vescovi a lui affiliati anche se Guglielmo si dimostrò attento a mantenere l'autonomia della signoria vescovile di Losanna agli inizi invece degli anni 40 del XV secolo vanno fatti risalire gli affreschi della cosiddetta casa del vicario di Pinerolo ritrovati nel 2011 che sfruttano un modello decorativo tipico degli interni per ornare la facciata meridionale esterna all'altezza del secondo piano in elevato dell'edificio al centro si ritrova lo stemma con insegni vescovili della famiglia Romagnano il palazzo venne infatti costruito entro il 1441 su un terreno che nel 1437 il vescovo di Torino Aimone di Romagnano aveva affidato ai nipoti Antonio e Teodoro allora volto a fratelli del successivo vescovo torinese a partire dal 1438 nuovamente all'interno di un verziere su sfondo bianco purtroppo molto rovinato al di sopra di un velario si ritrova sulla sinistra la raffigurazione di una partita a scacchi tra una donna di cui si riesce a percepire la capigliatura sulla sinistra e un uomo affiancato da un altro personaggio probabilmente una donna con copricapo a sella purtroppo è veramente difficile mostrarve in questa sede mentre ai loro piedi è accucciato un ghepardo sulla destra invece un leone ammansito pare osservare una dama con in braccio un cagnolino mentre alle sue spalle fa capolino un'altra dama con un cartiglio in mano da cui si possono identificare solo le prime parole buon esempio questa scena mi aveva inizialmente spinto a credere che potesse raffigurare una scena tratta dal romanzo della castellana di Vergì in cui la virtuosa nipote del duca di Borgogna per coltivare in segreto il suo amore con un valoroso cavaliere dello zio soleva inviare un cagnolino qualora fosse il momento propizio per un loro incontro segreto il gioco dei scacchi poteva forse rappresentare il momento in cui la duchessa di Borgogna ignara dell'amore tra il giovane e la nipote di suo marito tenta di sedurre l'uomo come appare per esempio negli affreschi di palazzo d'avanzati a Firenze tuttavia la presenza di un terzo personaggio nella scena degli scacchi farebbe decadere tale ipotesi lasciando aperto il problema dell'identificazione iconografica delle pitture pinerolesi per tirare un po' le somme osservando nel complesso le manifestazioni dell'arte profana nell'area in esame emerge come a partire dagli anni venti e per i decenni successivi fino a poco oltre a metà del secolo a fronte di una moltiplicità di soggetti raffigurati il modello del versiere su sfondo bianco costituisca il comune denominatore della quasi totalità degli esemplari di arte profana dei territori sottoposti all'influenza sabauda tra le rarissime eccezioni per ora poco più di un paio si ritrova nel palazzo vescovile di Ivrea si ritrovano delle scene profane su di uno sfondo di colore rosso ma impostate come hanno mostrato gli studi di Gabrielli originariamente su uno sfondo bianco ciò potrebbe quindi indicare come alla base potesse ritrovarsi un modello particolarmente prestigioso che possa aver dato avvio ad un così massiccio utilizzo da una parte della nobiltà dell'arco alpino nord-occidentale nell'arco di pochissimi anni ma mi chiedo se questo debba veramente essere conosciuto con gli affreschi della Manta perché per quanto vertice artistico della pittura di quest'area a queste date va sottolineato come gli affreschi della Marta ornassero un castello di un ramo cadetto di una dinastia che non doveva generare molte simpatie tra la nobiltà sabauda e tra l'altro in quegli anni aveva perso la propria indipendenza politica una dimora inoltre che lo stesso Valerano proprietario dell'edificio utilizzò raramente per i suoi atti pubblici preferendogli la casa sita nel borgo di Saluzzo fare quindi più verosimile a mio avviso immaginarsi un modello presente in una delle residenze sabauda purtroppo tutte perdute o rimaneggiate nei secoli successivi come ad esempio il castello di Pinerolo capitale del principato di Savoia Caia che tra il 1416 e il 1418 quindi in anni immediatamente precedenti la diciamo la diffusione di questo motivo venne decorata più riprese da Giacomo Iacuerio e dal pavese Duxaimo poco prima dell'estinzione del ramo cadetto di Savoia Caia come ho avuto modo di sottolineare anche altrove non è da escludere che le maestranze attive a Pinerolo morte il principe Ludovico trovassero nuove opportunità di lavoro proprio presso la manta di Valerano dove oltre agli affreschi molto Iacueriani del castello anche le chiese del paese iniziano a popolarsi di affreschi che scaturiscono dal linguaggio del pittore torinese e in parte dello stesso Duxaimo per concludere l'importanza di questo modello diciamo un'eccezione che conferma la regola l'importanza di questo modello nell'ambito della nobiltà filosabauda dovette poi sopravvivere ancora all'aprirsi della seconda metà del secolo mantenendo quel sepore arcaico ed elegante che possedeva fin dalle prime manifestazioni pittoriche note tra questi esemplari il più significativo e ancora tutto da analizzare è il testimoniato dagli affreschi ancora in uno stato come si vede abbastanza pietoso del castello di Cardè sede di nuovo della sede principale dei Saluzzo di Cardè che come detto furono spesso stili alla linea principale dei Saluzzo e al contempo alleati di Savoia se l'ambiente infatti occidentale risultava decorato con una serie di stemmi sabaudi accompagnati da lacci che formano nodi Savoia la decorazione figurativa occupava buona parte del livello siamo al secondo piano del castello a oriente nella fascia superiore si ritrovano gli stemmi e il motto dei Saluzzo di Cardè accompagnati nuovamente dal nodo sabaudo affiancati da due putti affrontati con armi o strumenti musicali al di sopra di festoni la modernità di queste figure induce a presumere una datazione già dentro a seconda metà del quindicesimo secolo un dato confermato anche dall'abbigliamento degli uomini nelle scene che si sviluppano sulle pareti di fronte di nuovo ad un verziere su sfondo bianco qui sono raffigurati diversi episodi in cui uomini con picche e lanci accompagnati da Segugi sono impegnati a dare la caccia a diversi animali tra cui l'orso come si può vedere in questa immagine di destra uno dei particolari meglio leggibili del ciclo purtroppo l'innesto di una volta botte all'altezza dei visi dei cacciatori ha portato all'irrimediabile perdita di una porzione importante delle pitture tra cui gli stemmi appesi agli alberi e questo insieme delle cacce doveva si concludeva con la raffigurazione ovviamente della caccia all'unicorno addemesticato dalla vergine sulla sinistra al centro una fontana e i giovani cacciatori sulla destra gli stemmi bipartiti sui due albi non chiariscono purtroppo al momento il contesto della committenza degli affreschi in quello di sinistra si riesce a leggere solamente quello dei saluzzi di Cardè mentre il secondo rappresenta un'unione tra i saluzzi di Cardè e un'altra famiglia notabile della zona i caccherano ma non ci sono in questi anni dei matrimoni tra un saluzzi di Cardè e una caccherano bensì un matrimonio inverso tra un caccherano e una saluzzi di Cardè in ogni caso merita di essere segnalato e sottolineato il valore di questo ritrovamento in quanto a rara testimonianza unica finora in Piemonte di una sala dedicata alle cacce iconografia attestata più riprese all'interno delle dimore signori di Tardo Medievali a partire dal celebre esemplare perduto presso il castello di Pavia senza voler fantasticare su possibili legami o riflessi tra il ciclo visconteo e quello di Cardè va comunque tenuto a mente che i saluzzi di Cardè furono in strettissimi rapporti con i visconti a partire dal suo primo esponente Manfredo che risedette a Milano per lungo tempo e i suoi figli come Antonio arcivescovo di Milano tra il 1380 e il 1401 e un legame che si ritrova anche nella scelta dei nomi spesso compaiono tra i membri dei saluzzi di Cardè Galeazzo e Gian Galeazzo al di là di questa ipotesi seppur dalla difficoltosa analisi delle pitture di Cardè che godono di un'attribuzione che non convince appieno al maestro delle volte di Elva quello che emerge è un dato secondo me significativo perché a fronte della modernità di particolari quali Putti o anche la Foggia della Fontana e in anni in cui gli artisti meno dotati della zona non avevano problemi a creare sfondi con un paesaggio città quel pittore ricrea sulla parete scene e un verziere collocati in uno spazio fortemente bidimensionale privo di profondità la sensazione è che anche in questo caso una tale ostentata e ricercata arcaicità rispondesse in qualche modo ad una volontà di riallacciarsi ad una tradizione iconografica che nel corso della prima metà del Quattrocento aveva fortemente connotato il decoro interno delle dimore della nobiltà filo-sabauda quali erano appunto i saluzzo di Cardè grazie dell'attenzione grazie mille per la tua presentazione non solo ricca ma anche veramente dettagliata e puntuale sarà difficile trattenersi dal porto subito delle domande ma bisogna aspettare la fine del panel e quindi continuiamo con la prossima presentazione presento volentieri Camilla Baldi che è dottoranda presso l'Università di Firenze sotto la guida della professoressa Chiodo e però già in triennale e in specialistica anche a Pisa si è occupata molto di pittura profana in triennale del ciclo di fruggerolo di cui ci parlerà tra poco e poi anche in specialistica invece però per quanto riguarda la miniatura il titolo del suo intervento è Amore e guerra ai confini dello stato visconteo riflessioni sul ciclo arturiano di fruggerolo allora facciamo la modalità presentazione e cedo la parola ecco buongiorno a tutti io ci tenevo a ringraziare Dario De Cristoforo tutti gli organizzatori del convegno l'Accademia degli Agiati per averci permesso insomma di discutere di questi argomenti che ci stanno a cuore e anche di farlo in presenza voglio anche diciamo scusarmi in precedenza con il professor Ameri che ha nominato la sua tesi di laurea su gli affreschi di fruggerolo che io non conosco quindi spero che di non insomma toccare argomenti magari ci sarà poi tempo di discutere alla fine dunque come già accennato il ciclo arturano di fruggerolo è stato il tema della mia tesi triennale e fruggerolo come sapete è un piccolo paese in provincia di Alessandria e questo ciclo è particolarmente importante dell'aspetto che avevo analizzato in particolare nella tesi triennale per quanto riguarda il suo rapporto con il testo scritto che è l'Ancelot du Lac che è una delle cinque parti che formano quello che è chiamato l'Ancelot Graal o Vulgata questo testo in prosa questo ciclo in prosa che racchiude tutte quelle che sono le avventure le vicende insomma riguardanti la morte di Re Artù fino allo sfaldamento finale del regno di Logre e gli affreschi sono stati segnalati e poi strappati dalla loro collocazione originaria nel 1971 e sono stati restaurati e rimasti per lungo tempo nei depositi fino al 1999 anno nel quale viene trovata una sede propizia per l'esposizione di questi affreschi strappati che viene trovata appunto nelle cosiddette sale di Artù dei musei civici di Alessandria e il 99 è stata anche l'occasione di una mostra e della pubblicazione del catalogo a cura di Enrico Castelnuovo che rappresenta un po' l'inizio chiaramente degli studi che sono stati fatti su questo ciclo partendo da quella che è la collocazione geografica del sito in cui sono stati ritrovati parliamo appunto di Frugarolo la torre cosiddetta torre di Andreino è quel puntino rosso che vedete sulla cartina che vi propongo che è nel comune di Frugarolo oggigiorno ma in realtà si trova ancora più vicino in linea d'aria al comune di Casal Cermelli che è la riva opposta dell'Orba questo torrente che poi si getta nel Bormida e come vedete è un luogo abbastanza isolato in aperta campagna sicuramente ai tempi ancora più isolato e ancora più in campagna che ha in realtà una storia insomma attestato da documentazione molto antica sin dal nono secolo la zona di Orba era conosciuta anche dai sovrani Longobardi era amata per la caccia in quanto ai tempi era boscosa e ci sono delle notizie che parlano proprio di un palazium carolingio nella zona che purtroppo non è mai stato in realtà localizzato identificato in ogni caso queste attestazioni hanno portato allo studio a cercare di capire che cosa si intendesse poi con questo castrum o curtis anzi inizialmente d'Orba e avevano insomma c'erano state delle teorie c'erano state delle ipotesi sulla localizzazione che sono state poi confermate con gli scavi archeologici dell'inizio degli anni 90 che si sono concentrati proprio nell'ambito di questo di questo castrum che oggi è chiamata cascina la torre e che come vedete nella cartina insomma di destra che ho tratto proprio dalla relazione di scavo si configura come una sorta di piccolo centro circondato da mura che ha una posizione importante perché è in croce a una serie di strade tra cui la strada tortonesa che è la strada che porta verso Genova e quindi verso il mare importante per i commerci ma anche per probabilmente azioni militari allo stesso tempo si trova vicino a una strada che porta poi al guado sull'Orba anche questo è importante questa zona è stata il castrum di Orba innanzitutto è stato appunto abitato fine probabilmente dal nono o decimo secolo e poi è stato raso al suolo per ben due volte tra il 1110 e il 1120 a causa delle lotte tra l'imperatore e gli alleeramici ed è poi conosciuto una fase di reinsediamento intorno al 1185 ci sono delle nuove attestazioni in cui questo comune è chiamato Urbenova quindi appunto città ricostruita fondamentale cioè città piccolo borgo ricostruito e nello stesso periodo nel 1175 viene fondata la diocesi di Alessandria e questo infatti è un luogo di grandi contese soprattutto per quanto riguarda gli enti monastici gli enti religiosi ci troviamo al confine con la diocesi di Acqua e la diocesi di Tortona e poi con la nascente diocesi di Alessandria e poi ci sono numerosi monasteri tra cui alcuni molto importanti come Santa Maria del Tiglieto a Bosco ora Bosco Marengo e e il monastero di San Fruttuoso di Genova che avevano qui delle grange cioè dei fondi agricoli molto importanti quindi appunto un territorio anche da un punto di vista politico amministrativo abbastanza frastagliato all'interno di questo castrum è presente quella che è la torre dentro cui sono stati ritrovati gli affreschi una torre che sia gli archeologi che poi diciamo gli storici gli storici dell'architettura non sanno bene definire come funzione sembrerebbe chiaramente una funzione difensiva perché la parte esterna che da sull'esterno è quasi priva di aperture ma allo stesso tempo si ha più l'impressione che abbia la forma di una sorta di palazzo pubblico oppure appunto di una residenza di un signore laico e infatti gli archeologi hanno identificato due fasi costruttive per la torre una prima fase tra XII e XIII secolo che è stata appunto collegata a questo re insediamento del 1185 dal 1185 e quindi diciamo questa torre sarebbe stata costruita probabilmente per essere la sede del piccolo comune urbano il comune rurale di Orba e poi una seconda fase costruttiva forse risalente al XIV secolo che però diciamo è datata sulla base della presenza degli affreschi legati appunto a questa torre adesso qui non si vede comunque c'è scritto cronologia tra Trotti Orba e Visconti do delle date così abbastanza indicative per far capire questo rapporto tripice i Trotti sono una famiglia alessandrina probabilmente proveniente da Gamondio che era uno dei centri che aveva contribuito alla fondazione di Alessandria nel sud della città di cui abbiamo notizie fin dall'inizio del XIII secolo e che avevano esercitato insomma i componenti più antichi i primi componenti avevano esercitato una professione giuridica grazie alle quali e anche politiche grazie alle quali si erano arricchiti e avevano iniziato a investire diciamo questi questi soldi questi questi proventi nell'acquisto di fondi intorno nel contado Alessandrino molti appunto sono vicini alla torre di Orba nel 1228 Reinaldo Trotti è appunto il potestà di Vercelli e quindi si deduce il raggiungimento di uno status di cavaliere che viene poi tramandato alle successive generazioni e il primo diciamo il primo personaggio dei Trotti di cui sappiamo di più che è anche quello che ha il rapporto più stretto con i disconti è questo Andreino che è uno dei capitani di ventura che collabora insomma parte degli eserciti più grandi dei maggiori condottieri di ventura del tempo da Facino Cane al Berigo da Barbiano che combatte per lungo tempo per il Papa e che ad un certo punto si lega in maniera più stretta con i disconti in particolare con Giangaleazzo con Giangaleazzo ci sono una serie di di fonti tutte però seicentesche cinquocentesche quindi non totalmente cioè non perfettamente credibili ecco che sottolineano un rapporto molto stretto fra i due che però non è provato da null'altro quello che i due diciamo i due contatti sicuri che possiamo definire fra i due personaggi sono nel 1377 l'esenzione fiscale che Giangaleazzo Visconti concede ad Andreino Trotti e ai suoi familiari per le terre appunto che questi possedimenti fondiari che aveva acquistato e poi nel 1393 l'autorizzazione che Giangaleazzo Visconti dà ad Andreino Trotti per fortificare alcuni luoghi in particolare i luoghi di San Leonardo di Campagna che gli aveva acquisito come pagamento oltre ad altri luoghi insomma questi erano compresi come pagamento da parte di Bonifacio Nono per un servizio che gli aveva reso a Perugia Bonifacio Nono in questo periodo diciamo elargisce numerose delle terre della chiesa perché in mancanza di liquidità decide di pagare così i suoi collaboratori quindi questo è il rapporto un po' che possiamo immaginare fra i Trotti e i Visconti un rapporto che si diciamo si colloca nelle dinamiche che vengono a delinearsi come un po' già prima se ne è parlato tra quello che è il centro del potere quindi la città e quello che è invece il contado i Trotti possono essere definiti come delle specie di signori rurali che senza in realtà nessun diritto effettivo ma con l'uso del probabilmente grazie al potere militare il potere politico che potevano esercitare amministrano un po' la zona comunque prendono un po' il potere nella zona anche diciamo con il benestare probabilmente della popolazione che aveva comunque bisogno di una difesa effettiva e gli studi gli ultimi studi appunto che derivano da quelli di Chittolini dai suoi allievi hanno proprio sottolineato questo rapporto che è molto molto dinamico in realtà è molto diciamo variegato che il potere centrale quindi il signore Giangaleazzo o i suoi predecessori e i suoi successori mettono in atto con queste signorie locali questi poteri locali che molto spesso anche un legame di tipo similfeudale quindi bassallatico per cui invece di una conquista effettiva si passa a una serie di concessioni di privilegi per ricavarne insomma una sorta di scambio reciproco questo è il rilievo che era stato fatto da Giorgio Orlando Perino durante la mostra per quanto riguarda gli affreschi la disposizione degli affreschi questi si trovano nel piano appunto rialzato della torre quindi in questa seconda fase costruttiva e occupano tutta questa sala tutte e quattro le pareti sono molto rovinati e privati di tutta la parte inferiore perché nel 600 vengono tolti i soppetti a cassettoni e vengono messe delle volte quindi le volte del piano sottostante cancellano in parte appunto questi affreschi e si vengono letti iniziano da dopo il cammino vengono letti in maniera antioraria per ritornare di nuovo sulla parete sulla parete ovest e prima di insomma vederli più nel dettaglio chiaramente ci si può chiedere quale fosse la funzione di questa sala di questi affreschi e quindi anche di questa torre non è chiaro in realtà appunto quale fosse difficilmente Andreino comunque la famiglia Trotti poteva vivere lì più probabilmente aveva un palazzo comunque viveva ad Alessandria e è possibile in realtà che questo luogo questa Curtis se diciamo accettiamo l'idea che fosse di proprietà dei Trotti potesse essere la sede della compagnia di militari di Andreino Trotti sappiamo infatti che le compagnie oltre a avere chiaramente uomini cavalli una serie di attrezzature avevano anche tutta una serie di funzionari che servivano a redigere le condotte cioè i contratti delle compagnie di ventura con chi li assumeva fondamentalmente e che avevano molto spesso una sede decentrata rispetto a quello che era invece appunto la dimora del Signore questo è valido per le compagnie appunto come quella di Facino Cane di Alberigo molto grandi ma sappiamo che anche le piccole compagnie avevano una struttura simile quindi diciamo un'ipotesi quella che qui potesse appunto avere sede la compagnia di ventura di Andreino ma andando agli affreschi adesso appunto ripercorro un po' cioè mostro tutte le quindici scene che compongono gli affreschi dicendo molto brevemente quello di cui parla in realtà appunto ci sarebbe molto da approfondire però in questa sede non è possibile farlo questa è la prima scena che è stata inizialmente interpretata come la quindicesima quindi l'ultima perché si pensava che fosse la morte di Lancellotto in realtà un confronto anche iconografico con le miniature che per prime probabilmente diffondono l'iconografia di questo ciclo ha fatto diciamo ha fatto capire che in realtà si tratta della prima scena con la morte del re Ban di Benoic che è il padre in realtà di Lancellotto e il ritrovamento nella parte inferiore del dipinto di Lancellotto in fascia da parte della Dame Dulac che sarà poi fondamentalmente la sua madrina e che lo crescerà la seconda scena è invece l'elevazione a cavaliere di Lancellotto il cosiddetto Dubemont da una parte si vede il suo il corteo candido che lo ha accompagnato fino alla corte di Camelot e dall'altra parte appunto vediamo in centro Lancellotto la Dubemont avveniva in una serie di riti e l'ultimo rito che è quello dell'allacciamento della cintura della spada lo completa Ginevra in questo modo Lancellotto diventa un cavaliere della regina e non del re per attutire un po' la sua colpa nei confronti di Artù la terza scena invece più diciamo generica e probabilmente diciamo l'insegnamento da parte di Artù o di un'altra figura verso Lancellotto della caccia con il falcone probabilmente si rifà appunto anche questa zona amata dai re Longobardi per la caccia dalla quarta scena iniziano quelle che sono proprio delle vere proprie avventure di Re Artù questa è quella più considerata più celebre più valorosa che è la conquista del castello della Dolores Guard che era appunto un castello magico difeso da una serie di guerrieri anch'essi magici che ovviamente Lancellotto sbaraglia la scena quinta è invece molto importante perché rappresenta un po' quella che è l'unicità del ciclo di Frugarolo cioè rappresenta l'incontro tra Lancellotto e Re Artù tra l'altro e Galeotto mi sono dimenticata di specificare il fatto che queste scene hanno delle didascalie che io ho messo nella parte destra della slide la trascrizione che sono in francese antico sono molto ampi alcune non sono leggibili e che sono state analizzate dai filologi insomma dagli studiosi come estremamente corrette e questo può essere un altro punto un altro indizio che ci fa pensare a una derivazione di questi affreschi da un manoscritto perché in realtà il francese antico non era così conosciuto così a quantomeno così ben conosciuto a un livello diciamo di ceto medio non comunque di grandi nobili appunto in questa scena c'è l'incontro finalmente tra Lancellotto e Galeotto e rappresenta un po' appunto l'unicità del ciclo di Frugarolo che mette proprio in risalto questa figura di Galeotto Galeotto nella tradizione italiana che legge il ciclo il ciclo breton è considerato il politico per eccellenza quindi il il cavaliere assolutamente corretto assolutamente diciamo senza macchia ma allo stesso tempo anche un un personaggio politico letto in un senso assolutamente positivo le scene seguenti hanno appunto come come centro questo rapporto tra Lancellotto e Galeotto qui c'è la famosa scena del bacio tra Ginevra e Lancellotto e dall'altra parte la formazione di un'altra coppia di Galeotto con la Dame de Maleo convogliata da Ginevra questa è la scena sono due scene che in realtà occupano lo spazio di un'unica scena da una parte c'è ovviamente la consumazione dell'amore per quanto riguarda entrambe le coppie e poi la scena la scena ottava che è conseguenziale in quanto Ginevra mostra ai suoi compagni uno scudo magico che le era stato consegnato da una fata con una grossa fenditura nel mezzo che sarebbe stata risanata soltanto in occasione appunto della consumazione dell'amore dell'amore vero quindi lo scudo ricomposto è segno di di questo di questo fatto e da qui in poi scompaiono scompare il personaggio di Galeotto e gli affreschi si concentrano su aspetti più bellici insomma più avventurosi ancora di di l'ancellotto in in questo in questo in questo episodio si scontra con il fratello di una maga che aveva imprigionato Re Artù e nella scena seguente c'è proprio la liberazione di Artù da questo castello e da questa maga qui invece c'è una una serie di di scene che fanno riferimento a un importante momento dell'ancellotto e Dulac che si chiama della falsa Ginevra momento in cui Artù di nuovo incantato da un'altra maga disconosce Ginevra come regina e l'ancellotto decide di intraprendere un duello giudiziario per diciamo vendicarla il duello giudiziario si svolge in tre diverse fasi una prima fase con la lancia che è qui rappresentata questa secondo insomma un po' quella che era stata la mia interpretazione una seconda una seconda fase con la spada che vediamo nella scena dodicesima e poi nella scena tredicesima quella che doveva essere una terza fase con un corpo a corpo in realtà la scena è molto tagliata e si vedrebbe soltanto la grazia data da l'ancillotto accanto a Ginevra a questo l'ultimo dei cavalieri che avrebbe dovuto affrontare la scena la scena 14 fa riferimento a un ulteriore episodio che è il rapimento di Ginevra da parte di Meleagant e si conclude con la quindicesima appunto con l'uccisione di Meleagant stesso di l'ancillotto da una parte vediamo Ginevra e Artù che Ginevra spinge l'ancillotto a finire il suo avversario mentre dall'altra si vede Artù che sembra chiedere la grazia e appunto come abbiamo detto queste la funzione di questi affreschi anche legata chiaramente alla funzione che aveva la torre non è non è appunto non è appunto chiarissima il il rapporto questo rapporto tra Trotti e Visconti però può cercare se si sempre come dicevo se si accetta questa 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 ipotesi si può cercare un po' di chiarire chiaramente c'è un principio di imitazione da parte di Andrino Trotti dei Trotti comunque di quello che ha un potere molto più molto più forte molto più grande una ricchezza molto maggiore che si chiaramente viene anche manifestata nel questo amore per la rappresentazione dei vestiti delle armature delle armi e c'è anche una sorta di valorizzazione di quella che è la gloria la gloria guerriera che dà il diritto anche per esercitare il potere in un certo senso quindi il buon guerriero visto anche come un buon regnante un buon signore e poi ovviamente i cavalieri di Rartù i personaggi del ciclo bretone hanno anche una funzione che è tutta didascalica come di modelli quindi di modelli da prendere ad esempio e questo potrebbe essere particolarmente significativo per un committente che di mestiere faceva effettivamente il militare quindi anche un certo atteggiamento nei confronti della violenza che con le compagnie di Ventura comunque cambia diventa in un altro modo rispetto a come era invece insomma è estremamente in contrasto con quanto è narrato nel ciclo bretone nei romanzi arturiani in cui la violenza è assolutamente sottoposta delle regole assolutamente rigide ed è una violenza tutta codificata e questo porta anche a una semplificazione del ciclo se prendiamo questi personaggi come modelli in quanto infatti nel ciclo di Frugarolo l'ancillotto affronta esclusivamente dei nemici esterni alla corte di Re Artù in realtà nei romanzi molto spesso si scontrano tra cavalieri però questo sarebbe ovviamente una complicazione per quanto riguarda un po' la morale generica questi appunto come accennavo possono essere derivati da dei codici minati anche che non è necessario che derivassero da codici minati di altissima qualità o di altissimo di grandi committenti diciamo opere di grandi committenti o di grandi artisti c'è tutta una scuola che è la scuola pisano-genovese qui vi propongo un miniatore dell'Italia settentrionale ma deriva da questa tradizione pisano-genovese di codici in realtà molto grossolani molto diciamo bassi che vengono illustrati in maniera un po' così amatoriale da forse probabilmente gli stessi gli stessi scrivi confronti più diciamo ci sono possiamo fare numerosi confronti iconografici che non servono tanto per un diciamo un rapporto proprio diretto ma servono più a far capire come ci fosse fossero dei modelli che circolavano modelli di immagine vera e propria e quindi si sprecano insomma i confronti con quello che è ritenuto una delle massime opere della miniatura longobarda del periodo che è la caisse du sante graal appunto rivediamo sempre la ripresa di stessi schemi anche se stessi schemi che però molto spesso raffigurano scene diverse illustrano scene che non c'entrano nulla l'una con l'altra tanto che appunto anche qui liberazioni scontri personaggi che assistono insomma tornei agli scontri e anche appunto come dicevo anche quindi presi da contesti che non c'entrano assolutamente nulla con i codici cavallereschi con i romanzi cavallereschi come per esempio i di Bridore da cui questo artista di Frugarolo sembra riprendere un po' queste architetture particolari e quello che però diciamo l'ipotesi che io voglio proporre in questa sede che spero di riuscire anche a approfondire maggiormente poi con gli atti è però di riprendere in considerazione quella che è un'altra potrebbe essere stata un'altra ipotesi di committenza esattamente 150 metri a sud del castrum di Orba e rappresenta un amansio dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme di cui si hanno un amansio con un ospizio per i pellegrini e probabilmente anche i crociati che si recavano a Genova a imbarcarsi dotato appunto di un ospizio e anche di una chiesa di cui però di tutto ciò non rimane traccia 150 metri a sud della torre questa è testimoniata fin dal 1192 e prosegue nel tempo è possibile insomma c'è anche uno studio in realtà di Patrizia Chierici dell'85 quindi precedente al catalogo della mostra che mostrava come questo castrum della torre di Orba fosse in realtà di proprietà di questo dell'ordine di San Giovanni e diciamo che a mio avviso è abbastanza credibile in quanto ancora nel 1477 poi nell'85 questa manzio viene valutata molto 200 fiorini e poi 400 quindi grosse somme e che non rimanga assolutamente nulla sembra molto strano secondo la Chierici la torre di Orba viene poi comprata da Pio V per il suo il convento di Santa Croce a Bosco Marengo quindi insomma si potrebbe un po' pensare al castrum di Orba come la sede in realtà di questa manzio dei cavalieri di San Giovanni e d'altronde negli stessi anni abbiamo a Sorg quello che è il gran maestro degli ospedalieri in quel momento che è Juan Fernandez de Eredia che aveva diciamo lavorava diciamo così ad Avignone ma aveva anche delle funzioni degli incarichi a Ponto Sorg e in questo in questo paese in quello che è chiamato la Maison de la Rengiane che era in realtà il punto dove lui aveva appunto aveva sede la sua capitaneria e dove forse aveva diciamo trovato una collocazione estiva gli fa dipingere una serie di scene cortesi in due ambienti diversi qui appunto scene esclusivamente cortesi di probabilmente di nessun significato particolare che non fanno riferimento a niente di particolare poi in un'altra sala più ampia scene proprio con il ritorno e l'andata alla caccia è una scena con fanciulle alla fontana quindi da un punto di vista di quello che è la committenza giovannita questi temi non sono completamente strani si potrebbe effettivamente pensare a una diciamo non sarebbe così assurdo pensare a una committenza di questo genere anche per quanto riguarda la torre di Orva qui propongo appunto non sono dei confronti che vogliono essere stringenti di stile ma appunto si parla si parla comunque uno stesso linguaggio ecco se sente uno stesso linguaggio e questo diciamo questa questa possibile committenza potrebbe spiegare quelli che sono due dubbi due questioni che sono aperte per quanto riguarda la torre di Orva da una parte nel loggiato quindi all'ultimo piano è stata ritrovata una Madonna del Latte con San Giovanni Battista e San Ludovico di Tolosa che rimane un po' inspiegabile si è pensato a una cappella privata di Andreino ma insomma in una loggia sembra un po' complessa un po' difficile e inoltre Ludovico di Tolosa non è un santo particolarmente amato né dai visconti né dai loro alleati e quindi chiaramente con una committenza giovannita in questo senso è più facilmente spiegabile questa presenza dall'altra parte uno stemma inciso presente all'interno di una delle scene di combattimento che io non sono riuscita a identificare con sicurezza e che sicuramente non è dei trotti né di nessuna delle loro spose o altro ma potrebbe essere dei Canefri una famiglia importante nobiliare alessandrina dalla quale proveniva San Pugo Canefri che appunto un santo appartenuto all'ordine all'ordine giovannita e particolarmente venerato quindi chiaramente da quest'ordine cavalleresco concludo e grazie Emilia grazie 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 Camilla anche a te per la tua bellissima presentazione che ci ha fatto viaggiare attraverso le storie dell'Angelo sotto Ginevra e poi ci ha dato in coda anche questa ipotesi per una diversa committenza immagino che i morsi della fame si facciano sentire e quindi concludiamo la parte diciamo mattutina e ci rivediamo alle 14 e 30 confermiamo ci rivediamo qui alle 14 e 30 grazie